Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Ciao amici, benvenuti! Come state? Benvenuti in una nuova puntata di Radio Tomodashi. Eccoci qua, con me due ospiti d'eccezione, ovvero Marco Merrino e Uesa di Uesa Channel. Bella, bella. Ciao. Presentazione orrenda però, insomma. Tutte le volte comunque che introduco qualcosa di nuovo chiamo sempre te, se ci pensi. Allora, l'intervista, quella sul divanetto, ho chiamato te. Mi tratti un po' come il Nintendo, utilizzano i loro IP maggiori. Cioè? Come una puttana. Cioè, c'è una nuova console, sì. Mario, Zelda. Però è una bellissima scopata. Ciao ragazzi, c'è anche la chat comunque. Tutti quelli che si abbonano li ringrazio dopo ovviamente, perché non è che posso interrompermi tutte le volte. Allora, questa è la prima puntata ufficiale di Radio Tomodashi. Ho fatto una sorta di puntata a zero durante la maratona e abbiamo cercato di migliorare un paio di cosine, soprattutto sugli interventi degli ospiti. Per chi non sapesse come funziona, c'è un'oretta di chiacchiere sull'argomento principale di oggi, che è la creatività. E poi intervengono direttamente da Discord degli utenti che si sono provinati questo pomeriggio per intervenire sulla creatività. Che cos'è la loro visione di creatività? Che cosa fanno nel pratico per essere dei creativi? Disegnano, scrivono, pittureggiano, scolpiscono, non si sa. Vedremo, io non so niente tra l'altro. Non ho conosciuto nessuno di loro, anche perché è bello l'effetto sorpresa. Ciao a tutti, ciao a tutti i ragazzi. E ho pensato di chiamare voi, perché? Per dei motivi in realtà molto semplici. Perché Marco è sempre stato un punto di riferimento per tutti, anche per il sottoscritto, per quanto riguarda la sfera YouTube. Cioè i tuoi video puntano sempre più in alto, sia a livello di budget, che a livello di montaggio, che a livello di ok, prendo 100 figuranti per fare questa scena, noleggio un caro armato per fare una scenetta di 10 secondi. Ecco, questa è una cosa che mi è sempre piaciuta e secondo me chi mi aiuta può parlare di creatività. E Uesa, perché durante la sua carriera YouTubica, in una stanzina, con un divano dietro... Faccio il contrario. Sì, sì, in realtà era full chiacchiere, però cercavi di analizzare con un occhio critico, anche un po' distaccato, sempre però mettendo dentro la tua opinione, fenomeni che riguardavano anche la creatività. E soprattutto mi piaceva di come parlavi di videogiochi, perché ne parlavi come, non lo so, del conflitto israeliano-palestinese, cioè sembrava una roba giornalistica. No, quello non mi interessa così. Però è il deringa sì, meglio del... Non l'hai mai fatto? Eh? Non mi hai mai criticato? Questa è l'occasione giusta. È un poissimo. Non ti ho mai... Io feci un video su di te una volta. Aspetta, riguardo cosa? Riguardo Vegeta, il personaggio di Vegeta. Oh, merda. Te lo ricordi il video di Vegeta? Certo, ma non ricordo cosa dicevi. Pensa che lo feci sovra pensiero, pensando che non avrebbe visto nessuno, dicendo due cazzate al volo, perché a me piaceva Vegeta. Quindi ho detto che ero il personaggio migliore, più drammatico, eccetera, eccetera. Però è facile... E mi è arrivata della gente addosso per mesi e mesi. Miei? Cioè che dicevano non rompere le pavole. Gente molto appassionata di Vegeta che di solito non... Di drago. Come si fa... Io capisco essere appassionati di Dragon Ball, ma essere appassionati proprio di Vegeta... C'erano le appassionate di Vegeta, di Piccolo, di Goku... Eh, erano anche... Che le varie fazioni sono arrivati per il club. Sì, sì, sì. Ma c'erano anche delle discussioni interessanti. E' anche il motivo per cui ho fatto il video, cioè che era... È più vegetale che... Il tuo video non era serio, cioè... No, no, non l'ho preso. Io non l'ho preso solo. Il mio video non era serio, ma c'erano persone che l'avevano preso entrambi. Entrambi molto seriamente, come al solito. Noi, secondo me l'avevi fatto un po' per raccontare cosa provavi alle feste quando volevi parlare di animazione e tutti avevamo visto solo Dragon Ball e potevi parlare solo di Dragon Ball. Ogni persona che ama qualcosa ha quel muro di non si può toccare né elogiare più di quanto posso farlo io, né criticare più di quanto posso farlo io. Quindi sì, è un po' quello il sentimento. Ecco, allora iniziamo proprio da questo. Come scegli gli argomenti per fare i tuoi video e soprattutto perché hai scelto proprio il video per raccontare la tua arte, diciamo così? Che domandone. Gli argomenti mi arrivano vivendo la vita mondana, quindi non quella là associata al digitale, quindi quella là non digitale, che ormai chiamiamo mondana, in realtà forse è meglio di quella di... Ormai... Prima mi vivevo meglio il dentro che il fuori, internet era un po' il contrario. Comunque sono sempre venuta fuori le idee, non è niente mai di associato a qualcosa che accade online. Quindi è roba che mi accade anche solo in amicizia, anche una sola frase, può scaturire un video. E i miei argomenti preferiti o comunque il modo soprandi è... Ok, questa dinamica esiste fra me e Dario, che è il mio amico, però è una dinamica di cui non si parla mai online, quindi mi piace moltissimo scaturire le idee da quelle cose di cui... che tutti provano ma di cui nessuno parla, è la mia cosa preferita. Il video, Dario, perché... Il video scriptato, soprattutto, quindi non live. Eh, io ti chiedo perché non proprio la musica, anche se lì insomma ci dobbiamo arrivare piano piano, non perché un altro medium, ma perché proprio il video, capito? Perché puoi prepararlo ad hoc, puoi farlo come vuoi tu. Al teatro è più facile col video per me. Puoi veramente crearlo come vuoi tu, non c'è... Non ci sono rischi, diciamo. Non ci sono rischi. È un... Cioè, se vuoi deliverare un messaggio creativo, anche se non vuoi... Anche se vuoi fare solo lo scemo come quando feci con Vegeta, il video è la cosa migliore perché puoi creare tutto dall'A alla Z e gli errori saranno solamente con i lati sviste, però è il momento più... è più facile. Sei un compositore. È veramente una composizione. No, è vero, sì, sì. È veramente una composizione, anche a livello di... Ciao, bello, un bacione. Ciao, Mase, grazie mille dell'aiuto. A livello di... spesso mi capita di scegliere prima la musica del video. Prima del video. Ah, è così. Spessissima volta. Io a volte, quando facevo i video, facevo un video solo perché volevo metterci con la musica. Certo. È veramente figa. Magari lo volevi fare tipo da tre anni, ma non avevi ancora il video giusto e poi dicevi questo qua è il video dove devo mettere questa sound. Volevo il commento dell'utente che la riconosceva. Riconosco benissimo questa sensazione, sì. Quanto pensi ai video te durante la giornata? Sempre. 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 Sempre, 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 sempre. Madonna. Non sei un pigro, per nulla, quindi. Sono un procrastinatore tantissimo proprio nei lavori, ma vivo veramente là dentro. E la difficoltà, dopo la quarantena è stato particolare perché la quarantena è stata una sculacciata verso tutti, a livello sia sociale che creativo. La gente, dopo che è uscita dalla quarantena, voleva vivere. E io l'ho vissuto un po'... Ok, vivo sempre pensando ai video. E Dario mi conosceva molto e ho vissuto parte della vita veramente sulle nuvole. Sempre l'aero. Non mi interessava molto di anche condividere quello che pensavo, se non come video. Da un po' di tempo a questa parte invece ho iniziato a... Anche con un alfabeto sbagliato, con il corpo, a cercare di spiegare da dove provengo, a livello proprio di idee. Perché quello che mi viene in mente è su quello che stavi dicendo della composizione, no? Del fatto che sei padrone di ogni millesimo di secondo, no? Di quello che tu produci. Io quando ho cercato qualche video composto, l'ho fatto ovviamente niente di paragonare, ma tutte le volte che penso a sviluppare un'idea nei dettagli, a mettermi a tavolino, mi pesa da morire. Mi pesa da morire perché ti rendi conto che il perfezionismo potenzialmente non ha fine. No, può diventare paranoia pura e basta. È terribile. Come fai a decidere adesso va bene? A volte devi rinunciare, devi riappare con te stesso. Qua lo sai cosa gioca a mio vantaggio? Il fatto che comunque sia... Ed è una frase un po' per sminuire, un po' per elogiare da questo punto di vista. Con questo sto facendo un video per YouTube. Arriva un momento dove ha valore dire fanculo, lascia così sta cosa qua. Anche troppo per YouTube, dici? No, sto solamente dicendo che su YouTube dire basta, non è perfetto, però lo metto in sì, che se ne fotte. Anzi, il fatto che ho lasciato una risata può piacere. Giova a tuo vantaggio, quindi puoi fermarti prima. Io lo faccio spesso. Posso che dirgli un'altra cosa? E tu come vivi? Scusami, darmi che rubo un attimo. Avere Marco in realtà è una figata. Ma te come vivi il fatto che la piattaforma è così effimera versus il culo allucinante che ti fai per fare i video? Bellissima domanda. Io non la vedo come effimera. Io, uno perché guardo principalmente fuori... Guardo il mondo. YouTube guardo mondo. Non solo l'Italia, non solo. C'è gente che guarda solamente video della propria regione. Tipo i genitori guardano i miei genitori, guardano i miei genitori in dialetto messinese. Davide Chio, saluto. Ciao Davide. Un grande salutone a Peppa La Poca. Mamma mia se mi sono resettato. Qual è la domanda? Merda. Il discorso è filmero versus... Ah sì, no, non mi pesa tanto. Anzi, semmai dovrebbe essere un carburale tipo, ma chi se non io posso mettere un video in questo posto, no? C'è da dire che in America YouTube viene vissuto in una maniera completamente diversa. E non è effimero per niente. Più legato al video è serio. Ci sono dei documentari che fanno il culo a metà della roba che produce la Rai annualmente. Senza problemi. Ma anche in Italia siamo arrivati. Sì, ci sono alcuni che fanno veramente... E non sto parlando di me. No, 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 vabbè, io parlavo di documentari, quindi no. Però sì, effettivamente roba veramente eccezionale. Che mi aiuta proprio a informarmi tantissimo. E te invece come sceglievi gli argomenti per fare video? Cioè guardavi l'attualità e ne parlavi? All'epoca in cui facevo video sull'attualità, sì. Di solito mi basavo sulle cose che mi facevano incazzare. Mi ha sempre funzionato, venendo da una cultura di sinistra, da una cultura bologna, progressisti sinistra, eccetera, eccetera, ho avuto purtroppo per me l'eredità culturale dell'indignazione. Che è una cosa di cui cerco di liberarmi. Cioè di quella cosa per cui ti incantare... Devi trovare la macchia, devi trovare... Ti incazzi, ma ti senti nobile per la tua incazzatura. Cioè senti che sei entrato nella parte nobile del mondo, no? Ma hai anche un profondo dovere morale, no? Ma ti posso fare una domanda? E questo è un brutto retaggio. Perché ti vuoi ripulire dall'indignazione? No, perché mi ha stancato. Perché non so, io non sopporto le persone che si indignano. E mi sono reso conto negli anni di essere uno che in realtà ha avuto, spero ha avuto e non ha più tanto, questa base. Perché l'indignazione rischia di diventare il moralista. Moralista che è una parola che non è necessariamente una parola brutta. No, no, però sono due cose diverse. Che si occupa di morale, filosofia e morale, una cosa figa. Però il moralista rischia di essere quello che vuole disegnare i limiti alla libertà degli altri. Discorso, ad esempio, politically correct, visto che se ne parlava prima. Il problema del andare a pestare con i tuoi parametri morali quelli degli altri, imponendoli come veri, come assoluti. Come usa adesso, quando io mi offendo, la tua libertà deve finire. Dato che offendermi è una cosa totalmente privata, nessuno può sindacare il fatto che mi stia offendendo veramente o no. Io posso offendermi quando voglio e quindi io ti possiedo perché ti comando. Perché io adesso con il mio offendermi... Quando provo del dolore tu hai finito di parlare. Ti sto mettendo un percorso intorno e tu devi seguire il mio percorso. E quindi il discorso dell'indignazione non è proprio la stessa cosa. Però una cosa che non mi piace è l'idea di moralizzare. Mentre invece una cosa che mi piace è cercare di tanare i fanatici. Quella è una cosa che invece mi è sempre piaciuto. Infatti il gusto invece della polemica ti è rimasto? O la paragone all'indignazione? A me trigra tantissimo... Mi trigra il fanatismo e l'ideologia. Di qualsiasi tipo? Di qualsiasi tipo. Quando vedo una persona che ha perso la testa per un'idea, per una visione di mondo. Quando si è innamorata e non è più passibile di cambiare opinione. Non mi interessa se la sua opinione è uguale alla mia. È lì che è più interessante andare a intervenire. Ok. Quello era un altro dei motivi per cui ho fatto il video. E perché te invece hai scelto il video proprio per comunicare? A parte che hai sempre avuto questa roba di volerti esprimere. Come dici te, io sono cresciuto in un contesto dove l'indignazione era quasi un valore. Quindi hai sempre cercato effettivamente un modo per esprimere la tua creatività, le tue opinioni, la tua voglia di comunicare? Sì, ma sai, io ho provato anche i blog prima dei video. I video sono più efficaci. Molto semplicemente come fuori... Per quello che facevo io non aveva bisogno neanche neanche dello strumento video. Però ho trovato che funzionava bene. YouTube è una piattaforma molto buona per partire da zero. Ancora oggi YouTube è una piattaforma che dà una chance. Sembra di più. Sembra incredibile, è vero. Esatto. E quindi mi ha funzionato. Non è che io sia un videomaker. Non mi definirei mai un videomaker. Ok. No, ha funzionato e come? Anche perché guarda, in chat leggo un sacco di commenti che, vabbè, Marco è abituato a fare live e video continuamente. Però te che sei un po' sparito ti stanno, insomma, facendo un sacco di complimenti. Vi saluto. Se c'è Angelo, so che ho realizzato il suo sogno in questo momento. Chissà. Chi è Angelo? È un mio fan e fan di Dario. Ah, ok. E quindi vive questa... I punti cieli. Se fosse nudo su questa scrivania sarebbe perfetto. Ecco, invece, tralasciando il discorso video che è comunque sempre molto importante, voi cercate anche il bello, l'arte, la creatività in altre cose. Marco lo so ovviamente nei videogiochi, anche te nei videogiochi molto spesso. Ma perché, secondo voi, sentiamo il bisogno di cercare il bello anche in quello che non facciamo noi? Perché abbiamo bisogno di stimoli o c'è anche altro? È veramente una ricerca di altra gente. E quindi te stesso. Che sembra un po' una poesia. Però tu hai detto bene a dire videogiochi. Io non... È solo dire ricerco l'arte nei videogiochi. Perché nonostante siano prodotti artistici, dopo che ne giochi un miliardo, io ne ho giocati un miliardo, arriva un punto dove artisticamente non è che ti stupiscono così tanto, proprio per forza di cose. Io sono a quel punto l'amato da dieci anni. Però è continuo a giocarli, perché più che arte, trovi un po' come comunicano altre persone rispetto a te. Ed è qualcosa che io ritrovo in tutti i prodotti artistici. Il fatto che quel tizio lì non abbia pensato che se raccogli 999 farfalle su Bet of the Wild e non va più a mille, ma rimane a 999, è interessante, perché ti sta comunicando il fatto che quel team di quel gioco in quella nazione ragiona così. Tu un po' trovi le persone nell'arte, perché alla fine l'arte non è altro che comunicazione, quindi io espongo a te il mio punto di vista su qualcosa, con la mia comunicazione. Quindi ti parlo anche di me, quando ti parlo di quella cosa là. Sempre cercato questo, è nell'arte. Tutta l'arte parla delle persone che la fanno, quindi è interessante. È interessante, cioè vuoi trovare gli altri attraverso, non magari un dialogo normale, da A a B, ma vuoi passare da quello che ti comunicano attraverso... Ma sai anche perché? Perché... Ritornando al motivo per cui io ho scelto il video, ovvero la facilità con cui farlo, poi il video ti insegna anche a parlare fuori dai video. Io iniziai per necessità, perché ero un po' sociopatico, da piccolo sempre stavo... No, più che un pacciatino ero incazzato, non volevo gli altri, via. Poi ho imparato, certa gente non impara o continua a reputare più virtuoso parlare attraverso l'arte che è semplicemente da persona a persona, perciò a volte non puoi che parlare con qualcuno guardando le cose che fa, perché non ti parlerebbe altrimenti, quindi è questo. Ok, per te invece? Quello che stai dicendo a te mi fa venire in mente che, anche solo facendo video come li facevo io, ho avuto la sensazione che chi seguiva i miei video, e li seguiva con attenzione, mi conoscesse meglio dei miei amici storici della vita reale. Comunque comunichi delle cose che magari non sono così apprezzate nei contesti che frequenti tutti i giorni. locali anche, non è paesino, è il tuo quartiere. Sì, ma trovi diciamo una valvola di sfogo per quello che non riuscivi davvero a... A sfogare magari anche nell'intimità. Esatto, quello crea un po' il problema parasociale, per cui a volte hai la sensazione che alcuni tuoi follower o persone che hai conosciuto, magari colleghi, ti conoscano meglio di chi ti conosce da una vita. Devi stare attento a non fare quello step, però stai parlando di qualcosa di veramente vero, ed è anche il motivo per cui io amo internet. A volte la severità è il guardare dall'esterno una persona solamente dai video. Di internet fa indovinare delle cose di te, che viverti sempre non suggerisce, è molto interessante. Anche perché secondo me selezioniamo in modo molto diverso le comprese. Cioè parlo per me, le persone che io ho conosciuto nel corso della mia vita non mi viene quasi neanche da dire che le ho selezionate, mi sono quasi capitate. Mentre invece magari una persona che mi ha apprezzato per quello che ho detto su internet mi ha scelto, tra virgolette, per una cosa più personale mia. Non è la persona con cui giocavo a calcio da bambino. Come tu scegli di leggere quel commento e affezionartici. Esatto, è una scelta. Oppure ti affeziona un autore, ti affeziona Idetaka Miyazaki, quindi si può creare una cosa un pochino parasociale. Però è una cosa affascinata. Sul discorso che dicevi te prima del bello e dell'arte, secondo me sono due concetti diversi. Nel senso che la ricerca del bello per me è sempre stata strumentale. Nel senso a me servono le cose per usarle. Io ho sempre avuto questa cosa qui. Ho passato tantissimi anni a non ascoltare musica perché non la usavo e quindi non mi interessava scoperta. Non la usavi nei miei prodotti, nelle cose che facevo. Nelle cose che facevi te. Mentre invece mi interessa sempre un autore che mi dà degli strumenti, che mi dà delle idee, che mi dà delle cose così. Per quanto riguarda l'arte in sé, per me è un concetto che potremmo anche non utilizzare, ma siccome lo utilizziamo, è molto simile al concetto di sacro. Cioè è un sacro ateo l'arte. Il discorso dell'orinatoio, di Duchampo, della merda d'artista. Tu prendi un oggetto che in un contesto non è un cazzo, lo metti su un piedistallo e ti metti d'accordo con delle persone. Delle persone deliberano che quella è arte, ma di fatto hai trasformato un oggetto comune in qualcosa di sacro. La stessa gioconda. Ok, è bellissimo, ma sono pur sempre delle pennellate su una cazzo di tela, ma ci siamo tutti messi d'accordo che ci dobbiamo togliere il cappello. In quel momento diventa arte, la visione dell'arte e non l'arte in sé. Non è interessante che ci sia merda là dentro, è interessante la gente che pensa che ci possa essere. Quella è l'aber arte di quella cosa là. Assolutamente. Sì, in base al movimento succede questo, secondo me. Il movimento diventa l'arte. Sì, per esempio nel dadaismo è più quello. Cioè il troll diventa arte. Il prendere per il culo e dissacrare l'arte diventa arte, che è una cosa bellissima e poetica. È quasi tutto. Nel senso, siamo talmente consapevoli delle meccaniche che è impossibile fare un'arte ingenue, un'arte inconsapevole. Non puoi più fare un'opera d'arte che non sappia di essere un'opera d'arte e che non parli del fatto che è un'opera, vedi, Kojima. E se non lo fai tu lo faranno miliardi. Esatto, e magari te la troveranno anche se non ce l'hai messa questa consapevolezza. Perché tanto è talmente nella cultura di tutti, che siamo tutti dei citazionisti anche quando non sappiamo di stare citando un cazzo. Quindi tanto vale essere sinceri e citare apertamente, in maniera esplicita e sincera. Almeno io faccio così. Io sono un tripudio di citazioni. Tutto quello che trovo assorbo e ridico, perché quello che mi piace lo voglio comunicare anche agli altri. Infatti volevo attaccarmi al discorso che avevate fatto voi. Io quando ho iniziato a fare video e poi tutto quello che ho fatto dopo, anche i fumetti che ho fatto con tuono, anche le carte, l'ho fatte per comunicare qualcosa che è stato parte del mio percorso e che mi ha dato qualcosa. Le carte, il collezionismo, hanno formato la mia persona. Quindi ho voluto cercare di comunicare quelle cose attraverso delle carte, il mio amore per le carte stesse. Oppure i video. I video li facevo perché quando leggevo fumetti, raccolò le salvette, ero l'unico a leggere fumetti e per me era una frustrazione. Quando ho visto che invece in Italia c'erano tantissimi come me, quelle persone hanno detto, cazzo questo parla a me. E quindi io di conseguenza ho trovato le persone che stavano parlando a me. Ed è stato il video. Fatti vedere, soprattutto costruire la camera. Guarda che cameretta tutta allestita, non si vergogna della sua passione. Quello è stata una roba molto interessante. La creatività secondo me è quello anche. È collettività. A me piace l'arte come concetto di collettività. Sono d'accordissimo. La creatività è collettività. Perché tu, il fatto che viene molto smerdato il concetto di chi crea contenuti e di chi ne usufruisce, però si sta creando un collegamento che anche solo antropologicamente è interessante da archiviare, da dire ok, è successa questa cosa. Questo tempo in cui è nato TikTok. E invece prima che non c'era, era più così. Indipendentemente se l'arte piace o no. Se quel canale non lo segui o no. Se quel video, quel film, quella musica non l'ascolti o no. Parla di qualcosa. Ha creato un collettivo. Oppure non l'ha creato. Ed è un dato. Tu hai tra l'altro una sorta di collettivo. Un po' sempre mutevole, però hai un team che ti aiuta nelle cose che fai, nei video che produci, quei figuranti, quegli attori, le persone che ti danno, anche magari degli stimoli dagli esterni. Ma quanto è difficile gestire un collettivo? Cioè quanto è difficile sobbarcarti così tante persone che ti devono aiutare ma che sono anche motivo di pensieri, motivo di magari anche litigi, volendo? È particolare perché nei miei video loro parteciano e basta. Fanno quello che veramente dico io. E non sto dicendo che ho il pugno di ferro. Ma essendo che prendo parte, cioè io curo la maggior parte degli aspetti, se non quelli di cameraman e luci e propri attori, altri che mi servono oltre me, loro devono solamente fare una parte. Penso che se prendessero più parte nell'aspetto creativo là inizierebbe a essere più un rapporto vero, proprio come rapporto, e quindi inizierebbero litigi e le cose normali che ci sono in un rapporto. Ma mi è sempre venuto facile, rispondendo alla tua domanda, a sostenere questa cosa qua, perché sono prodotti già confezionati i miei video. Quindi devi solamente partecipare, dire quelle cose e andartene. Poi ovviamente la bellezza sta nel fatto che a volte il video... Quando faccio Pazzi Ragazzi, Pazzi Ragazzi è nato perché Borraccia era un fottuto in culo, era pazzo. Era una persona veramente particolare che mi piaceva tanto, mi faceva morire da ridere. Quindi è nato grazie a lui. Però non si deve dire questa cosa, non devo prendere una persona e dire io ti sto facendo questa serie grazie a te. E quella è una cosa che devo tenermi io dentro, ma non solo per non rovinare la cosa, ma perché tutto funziona un po' così. Tu fai una cosa, tu citi qualcosa perché ti è piaciuto quando l'hai sentita. Non devi poter dire quello che hai detto in questa live qua ogni volta. Io faccio così per questo motivo qua. Devi tenertelo per te. Quello che poi viene è abbastanza facile e naturale. Però proveniva da lui. Ma non l'ho mai visto come pesante come cosa. Era semplicemente una consapevolezza che avevo. la gente che partecipeva con me sapeva che io avevo. Ed era facile anche per loro per questo, perché non dovevano... Ricevevano solamente una chiamata. Tipo partecipare al video, sì. E' finita. Non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. Per i video? Io sì, tantissimi. Per i video? Soprattutto all'inizio, quando facevo Pokémon Revolution, eravamo ragazzini, avevo 18-19 anni, ma era veramente difficile convincerli. Convincerli? Sì. Io ho iniziato a dirlo alle persone quando già ero scopiato. No, io no. Era all'inizio, c'era il 2009. Ed era difficile convincere perché avevamo paura di essere presi per il culo da tutto il paese. Ed effettivamente poi succedeva perché ci vestivamo da personaggi dei Pokémon. Quindi insomma era un po' più complicato. Però me lo ricordo con affetto. Mi stai rompendo un idolo comunque. Pensavo fossero tutti convinti da... No, zero, assolutamente. Cavolo. No, zero. In realtà forse... Mi mettavano scuse, mi paccavano. Un giorno andai sotto casa di riso perché doveva girare... Di che anni stiamo parlando? 2009-2010. E lui disse no, no, sono via. In realtà eravamo sotto casa sua ed era lì. Cioè era lì. Quindi ci aveva proprio raccontato una cazzata falesemente. Ma è così perché non voleva più ma non voleva dirmelo. Era veramente difficile. Si erano anche piccoli. E io... Forse all'inizio invece prima della divulgazione dei fumetti volevo far ridere le persone. E la trovavo una forma... una forma altissima di... D'arte anche fa ridere. Lo è. Una donna. E la cosa più difficile? Ti fa ridere ancora qualcosa tanto? Nel mondo? Negli ultimi tempi, sì. Cos'è che ti fa ridere di più? C'è qualche video? Qualche... Qualcosa? No. T'ho visto che ci pensavi molto un fa. No, ma c'è qualcosa che mi fa ridere. No, stavo pensando a cosa dirti. Non mi fa ridere niente come prima. La risata un po' è finita ma perché come si parlava anche prima c'è gente che dice che il politicamente corretto non ha rovinato le cose. Non ha rovinato tutte le cose però alcune le ha rovinate. A mio parere tu prima hai uscito un concetto molto interessante che io pure hai sviluppato nel video che sto scrivendo ovvero che l'offese, la sofferenza viene utilizzata come monito di ora ti fermo. Certo. se tu stai facendo una battuta e questa battuta finisce in un tasto che per me personalmente io, Marco non tutto il mondo per me è dolente io la mia sofferenza la utilizzo a livello universale dicendo di stai offendendo il pianeta Dario sta zitto. a me far ridere che esista gente così però è per un divertimento isterico è tipo ma veramente? non è una risata tipo ah 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 è una risata di gusto quindi le cose continuano a farmi ridere ma la risata è diventata è più isteria che puro divertimento scemo sai perché ti faccio questa domanda ti volevo chiedere se ultimamente e poi infatti voglio collegarmi a un'altra cosa che mi ha detto Weza prima se ultimamente ti senti limitato in quello che fai ti senti limitato a livello creativo non mi sono mai sentito limitato come fai a uscirne allora dato che comunque va in paradosso un po' la cosa cioè il fatto che effettivamente forse è un po' più difficile fare una battuta che non offenda però allo stesso tempo ti dici tutto tranquillamente quindi qual è la soluzione? cioè si può dire tutto effettivamente bisogna essere solo un po' più paraculi un po' più furbi oppure te te ne sbatti il cazzo e basta no 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 mi è sempre interessato allora il fatto è questo che io fin da piccolo io fin da quando io ho 33 anni ed è da 33 anni che so che ci sono le cose che non devo dire e delle cose che posso dire e mi è sempre interessato il cesto di cose che non posso dire e ogni volta prendevo qualcosa da là però se tu prendi qualcosa dal cesto delle cose che non puoi dire assolutamente devi vestirti dell'alfabeto delle cose che puoi dire perché secondo me se tu parli di cuore e con cuore intendo con l'alfabeto che la gente capisce e spieghi perché questa è la cosa più triste perché devi spiegarlo e riesci a spiegare perché la tua cosa fa ridere o magari non che fa ridere ma che non è offensivo perché magari puoi non far ridere però non stai offendendo nessuno non stai lanciando un'ascia di guerra tu puoi dire veramente tutto io non mi sono mai sentito limitato anzi cioè cioè ironicamente se la comicità si definisce veramente black quindi rischiosa che può offendere qualcuno che è bastarda le regole in più devono farti diventare il cazzo duro non devono ammosciartelo vero sono d'accordo altrimenti non non è neanche un discorso di sfida tipo ah ora abbiamo delle challenge in più ma se arrivano delle regole automaticamente diventa ancora più dark ancora più scuro ma vuol dire che devi mandare avanti comunque una quest che diventa più difficile che poi è più exp ok più skill point ma devi impegnarti non ho mai ascoltato nessuno parlare di questa cosa così non sto dicendo che sono unico e devono applaudire me però tutti quelli che ho sentito dire la frasona perché c'è la frase ora non si può dire più niente la frasona quando gli spiega ok spiegami un attimo rigira rigira dicono che non si può dire la n-word non si può dire la f-word è quella là sono parole basse sono quelle cose là alla gente ha le stesse risorse di prima per poter dire le cose di prima semplicemente adesso il pubblico ha aumentato esponenzialmente parlando e quindi ovviamente ci sono più offesini però rompiti il culo cioè vuoi la vita facile vuoi la vita facile allora non fare comicità perché ridere come diceva l'amico Uesa qua è una delle cose più difficili e questa è una cosa difficile devi farla se vuoi farla Uesa ti volevo chiedere perché te mi colpiva molto seguirti continuamente perché comunque postavi come un pazzo perché altri tempi eh sì poi parliamo anche di questo se ti va e mi piaceva il fatto che esprimevi il tuo gusto senza però mai passare da paraculo perché te dicevi con una dolcezza con un metodo e con una che non so con una dialettica che riuscivi magari a far passare il film che era piaciuto a tutti come un film per te di merda però lo dicevi con un'educazione assoluta che non ti sembrava nemmeno che ti aveva detto oh guarda che questo film per me è una merda fa cagare mentre tutti là fuori dicono che è Dio sceso in terra e a me questa cosa colpiva parecchio perché non ha mai avuto vergogna o paura delle tue opinioni cioè a proposito di questo qualcosa che invece ti sei limitato a dire o qualcosa che magari ti ha portato all'autoscensura a non dire non dire qualcosa ma ti dico in realtà in realtà semplicemente youtube mi ha fatto capire che c'erano argomenti che non gli piacevano come ad esempio il terrorismo o la guerra cioè nel senso che video che trattano di questi argomenti venivano sistematicamente demonetizzati oppure video che addirittura video che trattavano del me too e quindi tutto il movimento neo femminista per ragioni amè totalmente non sono mai stato anti ti toglievano la monetizzazione sì sì mi toglievano la monetizzazione quindi io so sapevo perfettamente che c'erano alcune tipologie di argomenti che tu li facevi for free li ho fatti poi lo stesso però questa cosa comunque pesa ce l'hai in mente il discorso il discorso dei film non mi ha pesato finché non mi ha pesato nel senso che poi alla lunga non è stato così così divertente in realtà andare controcorrente in alcune situazioni la cosa la cosa che per me è sempre stata più difficile è stata far capire il metodo dei miei ragionamenti a me non è mai interessato il merito non solo riguardo al cinema riguardo a qualunque questione anche le più serie a me non interessa davvero chi ha ragione o chi ha torto lo trovo qualcosa di facilmente soggettivo facilmente collocato storicamente io sono molto d'accordo su questo ovvio che è un'opinione tu ne hai una vabbè mi interessa molto come ragiono io come ragioni tu cioè noi come siamo arrivati ad avere un'opinione come funziona la nostra testa ma soprattutto qual è la nostra diciamo tra le due volte filosofia perché la cosa che mi piace quando ascolto una persona e l'ascolto con gusto è quando questa persona ha una filosofia cioè ha un suo modo di vedere le cose che riesco a rivedere in vari argomenti in varie cose di cui si occupano non me ne frega niente di essere d'accordo con quella persona mentre invece come sai perfettamente tantissimi utenti online selezionano l'influencer sulla base dei gusti ecco sì questo mi fa incazzare a te figurati se non te lo dico ti piacciono gli stessi manga ti piacciono guarda mi trovo a litigare molto spesso in chat perché io esprimo la mia opinione dico quest'opera non mi è piaciuta per questo non è che dico fa cacare punto dico perché mi fa cacare non c'è versi ma perché perché è quello che dicevi te cioè loro non vogliono trovare la polemica loro vogliono trovare qualcuno che ripeta pappagallo quello che dicono loro la vita di tutti i giorni perché si sentono a casa ma non può essere sempre così quando ti dicono quante volte ti hanno detto parlerai di questa cosa e dico la mia magari non è giusto in realtà non vogliono che tu parli di una cosa quello che ti stanno chiedendo è sviolinerai sull'opera del mio cuore metterai una montagna di miele con il tuo stile che mi piace tanto o merda eventualmente sull'opera che vorrei mamma mia mi viene in mente un esempio proprio pratico io l'ho detto mille volte ho detto ho dichiarato che non andrò avanti con Berzer perché era morto Miura era morto l'autore e ho detto non leggo i nuovi capitoli fatti dagli altri perché per me Berzer è morto con l'autore va bene buona scelta impossibile impossibile accettare questo e arrivarono a dire addirittura te hai un dovere come divulgatore di fumetti manga eccetera di leggere i nuovi capitoli è un po' vero però non che se ne fa è un po' chi se ne fa puoi fregare può darsi ma vaffanculo può darsi ma vaffanculo cioè anche per quello se muore un autore a me dispiace che non la finisca proprio lui ma che la finiscono gli assistenti per sentito dire è l'opera di altri autori eh non mi va magari è bella magari è bella magari sono più bravi di lui non credo dubito fortemente comunque secondo quello che hai detto prima ecco perché hai visto l'indignazione a un certo punto come un ostacolo perché hai innamorato più del metodo che è effettivamente dell'opinione soggettiva soggettiva io ho sempre paura di sviluppare male i miei ragionamenti non me ne frega nulla di quello che dico paradossalmente ah bella questa sono preoccupato di essere pedante sono preoccupato di essere un cagacazzo sono tutte quelle cose che mi danno fastidio perché vorrei veramente trovare nell'interlocutore quell'interesse per come ti posso dire il meccanismo no? hai visto come siamo fatti hai visto quanti cazzo cioè è in realtà è super pretenzioso come desiderio è certo che è pretenzioso ma infatti ho perso la voglia ho perso totalmente l'energia è un po' utopico è utopico è totalmente utopico perché tu vorresti un interlocutore visualizzatore ideale che si appassiona del di tutto ciò che abbiamo distorto nella nostra mente e di tutti i cosiddetti bias o pregiudizi eccetera eccetera in una costante ricerca di un'onestà intellettuale che è sempre la sfiori poi la perdi la sfiori perché poi ogni volta ti innamori ti innamori di una stronzata ti innamori di qualcuna e il discorso che ti dicevo prima che tu pigli un oggetto comune e lo metti su un piedistallo ora è un'opera d'arte lo si fa tantissimo con le persone si venerano le persone con gli idoli i nuovi idoli abbiamo sempre bisogno di idoli però ho anche portata di mano è un meccanismo che per quanto tu lo voglia combattere ci ricaschi ci ricaschi tu stessi quindi alla fine diventa un po' un circolo vizioso e questo è uno dei motivi per cui io non ho abbandonato perché palese che ragionando come stai ragionando tu e poi rendendo di conto e consapevolizzando di come è il pubblico anche soprattutto digitale non puoi uscirne vivo no non esci sono d'accordo questo è uno dei motivi per cui io ho la provocazione il fare un po' il fio di buttana anche solo le parolacce certo come linguaggio le utilizzo perché se non rimani perché noti in me che voglio da te troppo almeno rimani perché faccio lo scemotto e poi magari lo uso come esca per darti il messaggio è giustissimo però è un bel baratto perché è logico che fare come faccio io filtra peggio di come filtresti tu ci arriva ovviamente molta più gente che prende come idolo che vuole sentire sviolinate quindi ovviamente scegli il tuo veleno mi ricordo quando tu hai fatto il video su Metal Gear Solid 3 se non ricordo mai squadra cobre esatto non ho mai parlato di quel video prima volta let's go ok quel video lì io mi ricordo che leggevo la sezione commenti e c'era era piaciuto però c'era tantissima gente che se lo tirava fuori dai pantaloni perché avevi parlato di Metal Gear Solid capito cioè c'era proprio l'entusiasmo anche tu l'hai giocato siamo amici l'entusiasmo del fatto c'è Marco Merrino c'è Metal Gear Solid sono insieme questi due miti si toccano ma anche perché c'è da dire che lui nei suoi video lo citava spesso Metal Gear Solid quindi e aver lasciato delle moliche di pane per poi far esplodere tutto ma al tempo addietro avevo fatto proprio due video su Metal Gear Solid ma vi ricordate quando si è scoperto che l'ormai vedova Maria De Filippi la oggi vedova la oggi vedova giocava a Breath of the Wild minchia che è successo cosa che traspettiamo il gioco nuovo di Zelda abbiamo bisogno che i boomer apprezzino le nostre passioni perché se no non sopravviveremo mai mai poi ce la facciamo no 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 oddio Maria De Filippi gioca un videogioco assurdo no vabbè forse sì forse anche no forse no elodie è anche normale secondo me insomma è giovane credo forse è la nostra età non so e lo dico quant'anni ha vabbè sti cazzi è giovane molto meno di me forse è la tua età forse è per quello che hai smesso di fare video perché non sopportavi più il fatto cos'è che non sopportavi più del video? no mi sono stancato ho perso ho perso quella voglia lì nel momento in cui ho visto che era uno sforzo ripetitivo che andava a sbattere più o meno sulle stesse cose poi ti dico a me una cosa che ho sviluppato non so quanto sia a tema con questo discorso però una cosa che ho sviluppato nel tempo purtroppo è una certa un certo scetticismo nei confronti di internet versante influencer nel senso che io inizia io sono una persona che va molto ad entusiasmi ingenui io ho iniziato veramente pensando questo movimento degli influencer è la nuova questi sono i nuovi intellettuali cioè questo è il nuovo mondo della cultura in Italia minchia e sono passato da questo all'influencer è un testimonial di prodotti e tu capisci che sono due estremi il problema è che è vero in entrambi un po' e si però non è non possono io per esempio non sono d'accordo per niente sull'intellettuale zero proprio zero c'è qualcosa ma secondo me è talmente vero all'altra parte che sì ce ne possono essere uno o due che sono bravi effettivamente in che cosa io sono d'accordo a livello proprio intellettuale tu comunque vivi in una piattaforma dove sei esposto a migliaia di pensieri ormai su internet ci stanno anche persone di grande non solo intelletto ma anche titolo soprattutto estere io guardo solo estere che anche io secondo me anche solo l'esposizione a loro il guardarli ti rende meglio anche solo come spettatore di quello che eri ieri che guardavi solamente tizi con le parucche che facevano comicità copiandola dagli americani esempio c'è veramente un abisso incredibile c'è ancora gente in italia che vive senza internet e non parlo di solamente intrattenimento quindi ho fautori di contenuti o gente che ne usufruisce senza internet sembrano delle scimmie non lo sono eh viva le scimmie comunque si amo le scimmie sempre ma più andiamo avanti più la differenza fra chi sta dentro e chi sta fuori è gigantesca ma nel senso che a volte sono così anche fuori dal topic e non quel topic la ma il topic internet che io non ci voglio neanche parlare perché è difficile se vado a volte io abito in un paesino vecchio nel senso che ci sono molti vecchi a San Donato Milanese si vede tanto che non usando internet e non stando con i loro nipotini che li hanno droppati vivono in un mondo li puoi farmare li puoi? li puoi farmare li puoi farmare certo certo vivono in un mondo di 50 anni prima e quello che dicono sembrano notizie di notiziari di 50 anni prima è gente che purtroppo ha barattato palesemente il loro intelletto con il disagio che proverebbero se stessero sempre come si sta oggi su internet quindi è un po' in estrema all'altro io non dico che diventi che dobbiamo pensarli come i nuovi intellettuali perché poi si finisce a svendersi si finisce a fare tante cose ma banalmente secondo me molte persone impazzirebbero cioè dal giorno dopo il giorno dopo si metterebbero il cappello andrebbero a giro con la penna a forma di piuma e si senterebbero sto cazzo anche gli intellettuali lo fanno un po' così molta gente intellettuale che conosco sembra scema se la sente un sacco ed è per quello che si sono allontanati dal popolo quando in realtà dovrebbero essere in mezzo al popolo è vero questa roba mi sta sul cazzo il fatto che se non intercetti più la realtà non puoi essere un buon creativo cioè se non sei nel mezzo al popolo non puoi capire il popolo non lo puoi interpretare e non gli puoi passare assolutamente niente perché non lo interpreti più e il problema degli intellettuali di adesso è che non interpretano più il popolo non sentono più il volgo proprio non hanno idea e quindi non sanno più parlargli poi ovviamente l'uomo della strada può dire anche tante cazzate perché è ignorante perché gli mancano le basi gli manca proprio magari anche l'internet per capire il linguaggio dell'internet le basi ecco quindi mi collego a quello che hai detto te ma allo stesso tempo bisogna educarlo allora questo popolo se credi che sia così ignorante e stupido devi provarci però con il linguaggio aulico e soprattutto mettendo un muro tra loro e te innalzandoti non arriverai mai da nessuna parte infatti prima ho detto una cosa che poteva diventare perenoso però ho detto io a volte con queste persone non ci voglio parlare perché senti che sono così distanti a te sai perché alla fine ci devi parlare cioè se tu ti lamenti del fatto che esiste ignoranza e che ancora la gente non ci tratta come intellettuale o comunque come gente che lavora e che ha una dignità allora devi educarli ma è difficilissimo e a volte non è il tuo no è anche butti via il tempo è contraproducente a volte ma scusa te come fai allora a esprimere cioè te non hai voglia di esprimerti io impazzirei senza fare quello che facevo prima ma io faccio poi un sacco di esperimenti su YouTube che non legati alla mia persona ah ok sto facendo molte molte altre cose Marco diceva che lui segue tantissimo la YouTube internazionale non in Italia è una cosa che negli ultimi due anni faccio anch'io e ti apre ti apre tantissimo gli orizzonti ti fa vedere quante cose si possono fare e quante cose si può provare a fare l'altro giorno per dirvi tanto per citare uno che non viene mai citato Elon Musk lo metteva su Twitter ha messo un video per dirti cosa puoi fare oggi c'erano dei ritagli di Joe Rogan quell'altro filosofo che va tanto di moda che va sempre da Joe Rogan cattolico come cazzo si chiama Latone quel tizio come cazzo insomma Peter Jordan Peterson Jordan Peterson Joe Rogan Jordan Peterson Elon Musk e X e Y Obama non mi ricordo che cazzo c'era e tutti questi tutti questi personaggi dialogavano sulla voglia di vedere il pene di Elon Musk Elon Musk che si vantava del fatto che avrebbe mostrato il suo pene eccetera eccetera esattamente con la loro voce che era fatta con l'intelligenza artificiale e se tu non facevi attenzione al labiale la voce di Joe Rogan era indistinguibile indistinguibile per dirti cosa puoi fare oggi creativamente quindi tu capisci che si può sperimentare l'infinito l'infinito quindi secondo me ti dico da un punto di vista creativo siamo in un periodo che sarà a mio avviso molto breve di transizione e stiamo per avere a disposizione una quantità di strumenti che quello che avevamo prima ci farà ridere ma poi gratuitamente gratuitamente adesso quasi gratuitamente il meme è arte per te quindi ma tutto può essere come ti dicevo prima basta mettersi d'accordo è la migliore forma d'arte ok no no la migliore no è la più potente ok io lo disse a Casgarbi ti ricordi quando si è fatto l'intervista insieme che secondo me prima o poi mi ricordo lui disse i memi i memi magari potrebbero essere esposti chi lo sa è già così sono stato una mostra che c'era tvboy e c'era proprio uno su Sgarbi ma ti dico è per quello che hai detto tu che il meme è potente non perché arriva a tutti perché i meme vanno molto ad algoritmi io posso non vedere mai un meme di una comicità che io non apprezzo perché non ho mai messo mi piace a quella persona ma è la miglior forma d'arte perché il meme lo possono fare tutti quanti ed è quello che dicevi due risorse gratuite testimonia il nostro passaggio in maniera anche abbastanza emblematica secondo me io non ho un entusiasmo nel senso il meme in mano a una persona in gamba è una figa come qualunque cosa la dà in mano a uno che ha qualcosa da dire fa morire da ridere può essere geniale eccetera eccetera a me è una cosa che dispiace a proposito di commenti su youtube a proposito di magari ragazzi che si limitano a copiare gli altri creativi il meme come calco è quella cosa che per molti ragazzi ha sostituito la ricchezza del linguaggio per cui parlano a meme hai presente quei commenti che sono tutti uguali sono sempre la stessa battuta nessuno qualcuno cringe as fuck bro si sono creati una serie di stampini che per chi magari è alle prime armi magari con il mondo della comunicazione eccetera eccetera sono diventano molto limitanti se tu metti un meme nelle mani di una persona con un sacco di numeri ovviamente può fare le cose bellissime però in sé questo calco immediatamente disponibile è che tutti lo possiamo riempire con il minimo sforzo però è contro toglie la parola diventa un po' l'emoji delle frasi capi perfetto potremmo parlare soltanto potremmo parlare a meme potremmo parlare soltanto a meme potremmo parlare a meme e in più si crea un elitismo che a me fa schifo io non sopporto l'elitismo dell'intellettuale quello che dicevi tu prima eccetera ma io non sopporto l'elitismo che se tu non hai perfetta contezza dell'ultimo slang dei meme di forciane sono d'accordissimo ah guarda io adesso ti dici che è un po' non so parole qui cosa possiamo dire è una roba che no Dario troppo prima tu parlavi di muro soprattutto parlavo di vecchi quindi che non hanno internet se tu chiami un boomer boomer già sei tu il boomer abbastanza ok se tu dici boomer è un boomer quindi che non sa cosa vuol dire e l'unica cosa che sa è che lo si utilizza come insulto e non lo è neanche è tipo una roba storica più che insulto stai creando già il muro inespugnabile cioè dalla prima comunicazione che ok boomer muro non c'è niente da fare ma perché tutti sognano di essere l'elite intellettuale cioè anche il club esatto tutti vogliono fare il club al quale possono accedere solo quelli che una volta erano solo quelli che avevano letto la cosa in latino che cazzo ne so oggi sono solo quelli che sono aggiornati che mi piace con i meme esatto e quindi ti dico i meme per me il giudizio è neutro di base chi ci mette dentro come mi può interessare ma quindi ti hai detto che in mano a uno bravo il meme può diventare potentissimo ma per te chi è uno bravo cioè cosa perché per di cosa stai c'è chi è il creativo bravo no no non meme la meloni chan meloni chan quello che gli ha dato potere tantissimo ha capito tanto tutto è stato molto interessante lei ha capito proprio quello come parlare ai giovani cioè vado alle fiere del fumetto guarda sono in groppa al drago di game of thrones oddio incredibile sono anche io come voi no in realtà no ecco ma cos'è che distingo un bravo creativo da un cattivo guarda ti dico lui prima parlava di cosa lo fa ridere cosa gli piace più difficile ridere eccetera io pensavo a me piacciono molto ad esempio ne parlo spesso in live i vari Ricky Gervais o Dave Chappelle certo a me oggi piacciono quelli che stanno sul limite tra quello che si può dire e quello che non si può dire che riescono il mio il mio creativo ideale oggi è quello che riesce davvero a far incazzare tutti non quello che riesce a mettere d'accordo tutti bello perché mettere d'accordo tutti a parte che non esiste nessuno ci può riuscire ma è secondo me un obiettivo un po' un po' una trappola quello che io ci faccio un esempio il monologo che ha fatto Dave Chappelle al Saturday Night Live lui è riuscito a parlare male di una categoria che non sarebbero gli ebrei non so neanche se posso dirlo ok lui è riuscito parlando di Kanye West di Kyrie Irving e delle polemiche che ci sono state è riuscito a parlare male di questa categoria che detiene per legittimissime ragioni storiche l'assoluto primato della sofferenza del sofferenza del dolore non voglio dire vittimismo perché è vittima reale però tutti i vittimisti del mondo sognano di essere gli ebrei dell'olocausto capito se tu sei l'ebreo dell'olocausto sei la vittima delle vittime nessuno ti potrà mai cagare il cazzo perché sei l'ebreo dell'olocausto e il nemico è Hitler quindi hai sempre vinto loro lo sono veramente capito e lui è riuscito a fare un monologo di 15 minuti sul palco del Saturday Night Live quindi audience comunque generalista è riuscito veramente a cagargli il cazzo in modo sottile riuscendo a far incazzare come sempre tutti e però è stato fine non so guardalo è un monologo non l'ho visto è un gioco di equilibrismo ma non è l'equilibrismo del paraculo cioè anche il paraculo deve fare un equilibrismo perché non devi pestare nessun piede puoi immaginartelo così lui pesta tutti i piedi ma salta da un piede all'altro di quelli che pesta e quindi non è rimasto su nessuno non è ha avuto stile ha avuto classe ok lui è riuscito con classe a dire delle cose che non si possono dire e nel momento cosa che faceva anche luttazzi dei tempi d'oro nel momento in cui tutti sono pronti a fargli il mega applauso perché ora sì che farai il culo a Kanye West o quello che è lui è riuscito a fare esattamente il contrario e a mettere tutti a disagio perché tutti i ben pensanti perché tutti ciclicamente diventiamo ben pensati tutti i ben pensanti sono pronti a un applauso e se lo sono appena preso in quel posto e quindi lui ad esempio è uno che mi piace molto ed è vabbè una gestione della recitazione dei tempi posso farti una domanda? secondo te quanto nella fama di queste persone qui sì non è l'effettivo l'effettiva skill di essere dei comunicatori bravi ma è più abituato il pubblico a stare esposto a comunicatori bravi quindi a ridere e applaudire a Deschapelle secondo me è un reso complesso una cosa banale cioè perché la banalità era non pensi che anche il pubblico è meglio fuori il pubblico fuori dall'Italia sì ma certo che è meglio è terrificante essere in Italia io ho provato a fare dei video in inglese che ho dovuto rinunciare perché faccio schifo ma il mio sogno sarebbe fare un canale in lingua inglese ma non perché come ti posso dire la sensazione è non è questione di stare in un paesino o di stare a Milano la sensazione è essere costantemente in provincia io non sono d'accordo su questo del tutto io per ora non sono d'accordo però dici la tua ok io non sono d'accordo perché secondo me dipende da da che persone di che persone stiamo parlando tu parli della cosa del pubblico sì 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 no per esempio non soffro per niente a parlare a un pubblico italiano e mi sento anzi quasi sempre capito alcune volte riconosco che sia un po' da far ammorbidire tutto e a volte ti va contro un po' a prescindere però mi trovo molto a mio agio cioè non so se su internet però là si parlava di una tv generalista a me ti dico ah per la tv generalista è un altro discorso forse però non lo so secondo me è che il pubblico furbo il pubblico figo italiano non guarda la televisione ti dico al di là di televisione internet il discorso del mio personale sogno si fa per dire di fare una cosa su una youtube international diciamo così è ovvio quelle persone in gamba e sveglie a cui una persona ha piacere di parlare di comunicare sono ovunque sono in Italia ma la cosa che mi piace di un pubblico così vasto come può essere un pubblico che può avere un Dave Chappelle o un grosso youtuber in lingua inglese quello che ti pare è che l'anicchietta delle personcine a modo delle personcine che mi piacciono è abbastanza grande da consentirti di fare quello che ti piace che ti pare mi sembra a mio parere che il pubblico italiano è poco in quantità e in percentuale è pieno di tribalismi da ragazzini e come ti posso dire questo modo di comunicare estremamente conformista estremamente sempre da tifosi eccetera eccetera queste dinamiche ci sono in tutto il mondo naturalmente ma in Italia fai più fatica a sviluppare una nicchia diversa da questo mentre magari su un pubblico internazionale hai talmente tanta gente in più tra l'altro hai tantissimi italiani e invece convertire un pubblico bianco vuoto vergine nella passione che ami di più è la cosa più bella del mondo dateceli da piccoli secondo me è possibile anche in Italia dateceli da piccoli e saranno nostri per tutta la mia secondo me è possibilissimo secondo me ora più che mai però devi parlare bambini secondo me anche a ventenni guarda che ci sono tanti ventenni che non sanno in che passioni investire il proprio tempo ma non c'è dubbio non c'è dubbio o se sono passioni sono guarda una serie di Netflix che non è una passione guardassi una serie su Netflix è diverso la passione per la serialità la passione per il cinema l'audiovisibile tu li vorresti fare tu dici fargli appassionare a una singola cosa non so i fumetti quello che ho sempre fatto è sempre stato quello cioè io quando parlavo su YouTube di quello e anche ora su Twitch è quello cioè io voglio fargli appassionare a una roba che non sapevano di volere e che improvvisamente vogliono e fanno cazzo che roba ho scoperto cioè ma io dove dove ero fino ad adesso capito che poi il motivo del perché tanti giochi che prima si giocavano in tre adesso le giocano in mille un milione di persone quando invece no guarda i Souls cioè i Souls prima erano di una nicchissima certo adesso invece li giocano tutti vuoi perché per il passaparola delle loro della loro estrema difficoltà vuoi perché grazie a tanti divulgatori sul web compresi anche qua in Italia Michele Affini hanno fatto hanno divulgato quella tipologia di gioco ma comunque quelle persone adesso sono molti di più rispetto a prima quindi secondo me quella conversione c'è ci può essere anche in Italia e se ce la fai in Italia secondo me è un motivo di orgoglio non è la cosa a cui ambisco io ok ci sta però ti dico questo per dire a me piacciono moltissimo i Souls però non avrei mai come obiettivo sì sono molto appassionato dei Souls e non avrei mai come obiettivo cioè non mi può far appassionare una persona i Souls cioè o far non so mi piace Umberto Eco devo far appassionare una persona Umberto Eco perché non lo so appassionati secondo me appassionati quello che ti pare cioè capito nel senso per dire cioè non so a me piace piacciono i Souls e sono super appassionato dei Souls e li adoro ok va bene però io non so un cazzo cioè è questo il punto quindi non lo so io ti consiglio i Souls ma là fuori c'è tanta roba magari c'è anche di meglio che cazzo non so io io a volte lo faccio intanto invito gli utenti a prepararsi su Discord ragazzi mettetemi in fila io a volte lo so so qua di Dario la faccio perché l'Italia è un po' il paese dei lamentosi quindi sembra che la felicità è impossibile da toccare non esiste quindi a volte lo faccio proprio a livello di marketing ovvero ragazzi vi lamentate che dite che non c'è questo gioco e che non esiste invece guardate cosa ho scoperto io solamente perché io ne sono molto esposto perché faccio l'influenza quindi per forza devo giocare alle cose comunque sono e mi viene più facile molte volte mi regalano i giochi più facile per me però quindi mi sacrifico per voi ragazzi gioco a tutto per consigliarvi che fra quei mili che ho giocato questo qua magari se spendete soldi su questo a volte lo faccio così no no ma è figa come cosa cioè assolutamente sì che bellissimi bicchieri dovresti dare a te quello bianco vai bello così effettivamente bene ragazzi io direi che se siete che se siete pronti su discord potete fare entrare il primo io non so niente di questi utenti è proprio nulla non so cosa devono dire parlare però bevo un po' d'acqua perché mi sono scordato di portarla intanto ciao a tutti qua in chat ciao Manus grazie no non è una dv però se c'è qualche marca d'acqua che ci vuole davaini a me non è che sarebbe figlissimo io dalla panna vorrei farmi sponsorizzare è la più buona secondo me no buonasera oi ciao come ti chiami tesoro nickname o nome Dario pure io no Dario ti chiami ok ti chiamiamo Dario se no il nick qual è andiamo a nick Rezzi Rezzi confermi? sì 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 come faccio a sentirvi perché sento solo te Dario ci siamo ci siamo eccomi lo stavano proprio parlando capito quando stanno zitti non si sente quando parlano non li senti vabbè non prenderevi il culo no scusami non so perché ma quando arrivano gli utenti subito parto così devo stare calmo che cosa fai nella vita tesoro? io sono un full stack developer un programmatore ah figo per chi? per quell'azienda? eh no 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 dicevo poi i modelli tendili fai vedere la tua nonna la tua madre no devo smetterla sì mamma che si no sì per quell'azienda per quell'azienda per quell'azienda intendevo adesso stronzo io no 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 si 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 chiama Nigitor Nigitor Consulting ah ok ok ecco perché hai deciso di fare questo lavoro? cos'è che ti appassiona di più di questo mestiere? raccontaci un po' della tua attività dell'informatica creare e creare anche siti web eccetera anche se sono qui per un altro argomento che è una cosa che faccio per hobby ah dici tutto pensavo di essere off topic però i tuoi moderatori mi hanno detto che non è il caso cioè che non sono off topic io gestisco un team italiano che si occupa di metaverso ah ok wow quanto riguarda The Sandbox The Central TCC World e anche banalmente Minecraft ok io non sono una sega lo spiegheresti a uno che non sa niente di metaverso? che cos'è il metaverso? sì di che cosa ti ho cioè cosa fai per hobby? io gestisco il team poi noi ci occupiamo di creare esperienze per dei clienti sia privati che non quindi per The Central possiamo creare anche variables quindi ne so ci può abbigliamento eccetera fare una passerella un'esperienza una passerella e mostrare questo abbigliamento questo è uno dei tanti scopi per cui creiamo esperienze con le modelle? banalmente come scusa? con le modelle? con le modelle sì virtuali virtuali rd ovviamente sì ma scusa ma che cosa cambia da fare una sfilata i soldi praticamente cioè cosa cambia da fare una sfilata normale? perché non ci puoi andare è un posto accessibile anche da casa ah per quello vabbè ma non puoi filmare la in diretta e streamare la pezza che palle no a volte no sto cercando di capire no perché comunque tu sei a casa sei da sfilata non devi sempre andarci dico la mia Dario se posso secondo me la bellezza che ci vedrei io nel metaverso è che comunque tu vai in un ambiente che io me l'immagino un po' asettico un po' apatico nel senso non ci sono modelle c'è qualcosa che può essere accessibile da tutti anche solo come gusto parlando della moda io sono abbastanza patito mi piace Milano da un'immagine abbastanza spaventosa della moda nonostante a volte ci sono passarelle di vestiti anche molto abbordabili a livello anche di costo è una cosa che tu puoi dire ok magari devi educare la moda oppure ti stai zitto e te ne freghi il cazzo nel metaverso avresti la possibilità di vedere robe così senza la paura di incontrare gente o cose così cioè entri e vai sei a casa sei dall'altra parte del pianeta è comodo e questa cosa Dario funziona effettivamente cioè ci sono aziende che usufruiscono dei vostri servizi per non so presentare i loro prodotti eccetera sì ci sono aziende che fanno questo ad esempio una cosa famosa su Minecraft per l'expo di Dubai non l'abbiamo fatto noi nel 2018 ad esempio un'azienda famosissima ha potuto partecipare a questa esperienza e la gente prima di entrare all'expo di Dubai poteva vedere su Minecraft l'intera copiera che figo quindi invece di una solita di un solito render 3D si è pensata una soluzione più artistica più divertente ecco esatto sì quindi la gente poteva poi orientarsi tranquillamente dentro l'expo questo è una cosa un virtual tour praticamente come dicono in chat beh ci sta esatto ok bene ti ringrazio Dario grazie mille non conoscevo questa cosa noi attualmente siamo uno dei team più importanti in Italia e niente volevo volevo flexare un po' questa cosa io ti ho un po' spammato anche per quanto riguarda Minecraft ci dovevo mettere d'accordo ah sì 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 no ma ora infatti ti chiamo appena posso perché ho avuto un problema con le poste ma arrivo veramente facciamo tutto va bene grazie a te grazie a te ciao Dario grazie di cuore puoi spiegarmi il problema con le poste se puoi un attimo no c'era fermo un pacco e dentro c'era il router wifi per connettermi e poter comunicare con lui comunque secondo me era una voce registrata non era una persona vera questa era un deep fake palese un voice sì una intelligenza attività sì secondo me sì ma dovevamo interagire con questa persona l'abbiamo interagito parlava lui era contento di questa azienda e basta voleva flexare con quello addettore per la sua missione però è interessante io non lo sapevo del Dubai ma io voglio il metaverso però di Yoko Taro bello prima di figa e basta prima di culi e basta può parlare alla seconda persona se c'è prima di culi belli magari c'è un'altra persona che vuole presentare l'azienda pronto buonasera ciao ciao come ti chiami tesoro mio chiamo Giovanni ciao Giovanni grande king come stai? cosa? ma cosa volete da me? Giovanni che farei alla vita? dimmi bomber ok vabbè al momento non lavoro però dovrei lavorare sono a Torino diciamo che nel tempo libero mi piace tantissimo passare sopra i quaderni sopra i fogli a sperimentare a disegnare ed evolvere sempre di più il mio stile dal punto di vista di graffiti ah graffiti ok quello che volevo di cui volevo parlare con voi era per appunto questo ovvero dei graffiti da dove nascono da dove arrivano e del movimento diciamo culturale no vabbè della cultura hip hop certo però più che questo cioè te vorresti farlo diventare un lavoro la street art? perché è difficile no? penso credo sì è molto diciamo complicato perché anche essendo comunque un argomento abbastanza di nicchia credo quando iniziai quando avevo diciamo più o meno 15-16 anni a interfacciarmi su questo mondo ho sempre avuto l'intenzione e la voglia di provare a trasportare questa cosa in un vero e proprio lavoro quindi per dirti non lo so essere chiamato per realizzare murales oppure per appunto spazi di camere oppure camerette e realizzare tutto ciò che diciamo può avere un tema che possesse applicato quindi non so per dei ragazzini oppure semplicemente che però non sei uno street artist illegale cioè vorresti farlo proprio per lavoro cioè la gente ti chiama per decorare non hai mai provato a fare un muro illegalmente con un team magari io ho iniziato così tutti iniziano così penso qual è il tuo nome e cognome indirizzo come? no niente dicevo ma quanti anni avevi quando hai fatto il primo muro? l'ho detto prima avevo 15-16 anni ah 15-16 scusami ok perché io non capisco perché Marco ride è veramente assurdo sto interagendo con l'utente scusami non avere paura sono curioso assolutamente no no ok ma com'è andata quando avete fatto il primo muro illegale con il vostro team con la vostra crew anzi non c'è bisogno di narrare quello giusto scusami diciamo che ho iniziato da solo ah da solo quindi avevo una cacazza assurda la prima volta con me ah al buio o era mattina una cacazza come? era buio sì e come facevi a vedere dove dipingere vabbè hai un po' le torce ma è difficile con la bomboletta in mano ma era di un muro di una persona che ti stava sul cazzo oppure era un muro tipo della cof no 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 semplicemente ero lì perché volevo provare a realizzare la mia prima tag sul muro non perché mi stesse sul cazzo qualcuno ok era una tag sì posso chiederti una cosa Giovannone certo tempo fa una mia amica che era molto più io non so niente di graffiti però mi raccontò di questa storia di questi due graffitari che per tipo cent'anni si sono taggati nello stesso muro uno sopra l'altro l'altro sopra l'uno una sfida sempre sempre fino a quando uno di loro è morto allora l'altro ha fatto una cosa carina è come se si è taggato da solo con la firma dell'altro ma bello romantico conosci il nome di questi due se vogliamo dare un po' di contesto o non lo sai allora c'è una storia effettivamente non so se sia quella a cui si riferiva la tua amica ma c'è la storia fra Sin e Cap che sono due writer due graffiti writer molto diciamo importanti per quanto riguarda le origini del graffitismo almeno per come lo conoscono tutti ovvero che Sin intraprendeva diciamo la strada dei graffiti che volevano dare per l'appunto un senso volevano dare benessere all'occhio quindi realizzare dei murales qualcosa che rimanesse quando cammini ok mentre Cap era un writer che effettivamente cercava soltanto il vandalismo cercava soltanto di riempire le strade e i muri con il suo tag soltanto per imporre fra virgolette il suo territorio fra virgolette i tag usati così per vandalismo sono sempre illegali no? non c'è il tag legale se tu vai a mettere la firma stai solo rompendo il cazzo giusto? diciamo che è un argomento particolare perché la tag diciamo come abbiamo visto per esempio con con il murales che ha voluto realizzare Dario insieme al ragazzo che ha chiamato per flashback la tag diciamo che in quel contesto serve per l'appunto a rivendicare a firmare il quadro sì 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 quindi diciamo che è la tua firma effettiva di un quadro fra virgolette mentre la tag fatta per diciamo tanto per farla e io non lo diciamo oggi non la vedo bene perché ovviamente col tempo la mentalità attorno ai graffiti si è evoluta come giusto che sia però sì non è una tag fatta tanto per farlo ecco se io fossi un graffitario non mi piacerebbe ricevere commissioni ma mi piacerebbe andare insomma a provare l'adrenalina di fare un muro illegale farmi sgamare da carabinieri da poliziotti sarebbe molto più interessante secondo me però te non sei di questa scuola sei un po' adesso diciamo che molti graffitari a meno il 90% credo la vedano come un qualcosa che debba essere legale deve essere legalizzato deve essere un movimento artistico che deve essere legalizzato a tutti gli effetti non ovviamente che si può andare con uno di casa te che sei bolognese no te vorresti imbrattare tutto e basta vorrei pulirli vorrei fanno scherzo quelli a Bologna sai che a Bologna non so Dario che sei su Discord Giovanni Giovanni a Bologna c'è si è creato questo movimento per cui le persone che non sono dei tuoi colleghi nel senso che non sono dei writer però comunque scrivono sui muri delle frasi ad effetto delle frasi brillanti per finire su Instagram ma tipo non lo so una citazione una frase poetica una cosa da Instagram perché ci sono i profili Instagram che fanno i muri di Bologna e quindi volevo sapere se anche tra i writer c'è il discorso di pensare a fare delle cose instagrammabili ma non lo so sinceramente ne vedo pochi che fanno è ancora un po' analogica come arte ti ripeto il punto della graffiti art è proprio quello anche di trasgredire però deve essere una cosa bella il tag scrive Salvini merda per quanto mi faccia piacere non ha molto senso secondo me bisogna fare anche un lavoro bello bello ma illegale secondo me è interessante più così però è un mio parere grazie mille Giovanni comunque tesoro devo lasciare una roba ovvero se qualcuno diciamo vuole capire un po' meglio questo mondo vuole esplorarlo fra virgolette consiglio di andare a vedere un film documentario su youtube che si chiama style wars style wars ok style wars diciamo che è un documentario che vuole parlare di pop ma si interfaccia di più sul mondo dei graffiti che su il freestyle e la break dance quindi è il dj setting ok però diciamo è un documentario molto interessante che vi fa scoprire tanto di questo mondo vabbè se lo trovano su youtube ragazzi avete sentito il titolo grazie mille giovannone grazie grazie a voi per l'opportunità ti abbraccio forte tra virgolette sempre ciao sempre e vai il prossimo ragazzi devo anche stringere perché ci sono tantissime persone in fila voglio parlare con tante persone mica solo con due dai perché che ne dici Marco no hai ragione ciao ragazzi ehi ciao dimmi bomber ciao qui ti chiami sono Riccardo mi conosci già Ricky is my name sono il ragazzo che fa stop motion con i lego come stai bene dimmi un po' raccontami la tua storia dai dici un po' allora io no ma non andare sempre più bassa perché mi sono abbassato io rialzati dai dici allora io diciamo mi sono sempre appassionato con i lego tantissimo già da piccolo e già da quando ero piccolo giocando molto con i lego mi sono appassionato degli stop motion soprattutto vedendo video su youtube quindi seguendo tanti animatori famosi e poi niente così mi sono mi sono fissato e allora ho iniziato circa nove anni fa con delle piccole animazioni più piccolissime proprio tupide fatte molto male anche ok ma puoi far diventare questa cosa al lavoro o no? oppure lo fai solo per hobby? sì e come intenzione? questa cosa mi piacerebbe molto trasformarla in un lavoro quali sono i prossimi passaggi che ti sei fissato? questo ancora non lo so però in tipo non so freelancer commissioni da altri o da creator o da aziende eccetera hai fatto delle prove tipo dei video che hai messo da qualche parte qualcosa? sì pubblico sempre ogni tanto pubblico dei corti che realizzo scrivo monto quindi molto autodidattica fai ma è figo fa tutti i mini set con le lego l'illumina fa proprio quello che si dovrebbe fare con la stop motion aspetta ma io l'ho visto una cosa su di te ha fatto la pubblicità di flashback bravo sì quella roba è fighissima lui è molto bravo sì Riccardo è veramente fighissima complimenti grazie mille ma hai pensato di andare magari in una scuola specializzata per fare queste robe qua cioè ancora no ok ma quanti anni hai? sto soltanto lavorando in questo cioè sto facendo soltanto questi piccoli lavoretti piccoli commissioni ok ma perché hai scelto proprio la stop motion cos'è che ti stimola di più di questa di questa arte perché ti piace così tanto la stop motion rispetto magari animazione 2D o 3D addirittura allora all'animazione 2D sì soprattutto anche perché non so disegnare non sono molto bravo a disegnare quindi per me la stop motion è diciamo tra virgolette più semplice anche se è tediosa molto tediosa da realizzare sì ci vuole molto tempo è quello il problema quanto ci hai messo a realizzare lo spot? lo spot di flashback ci ho messo all'incirca due mesetti però c'era stata una pausa una pausa in mezzo a questi due mesetti da solo l'ho montato animato da solo e ho contattato altri ragazzi per farmi evitare con le voci di solito un team di stop motion ad altri livelli tipo sono famosissimi video di Coraline ad esempio su YouTube quanta gente è? Laika Laika non mi ricordo quanti dipendenti sono non mi ricordo proprio però ci mettono un bot anche loro è difficile eppure sono veramente un team hanno tutte le faccette pronte da modellare è una cosa molto complicata che storia però voi non avete mai pensato di fare qualcosa di materico così? no ma io ci trovo molto del io ho paura ma materico no però io quando monto è tedioso la tediosità è una cioè quando vedi il lavoro sembra anche ci sono dei film in stop motion di animazione che fanno schifo ma comunque diventano già vintage solo perché sono stop motion quindi la tediosità secondo me viene molto ricompensata dal fatto che già è uno stile che è sufficiente solamente perché ha avuto un risultato è particolare la tediosità da questo punto di vista si apprezza l'impegno la matericità possiamo dire credo già se esiste questa parola della stop motion comunque sì ma a me ha sempre affascinato solo che allo stesso tempo quando ho visto come si realizzava mi sono immediatamente spaventato mamma mia sì perché è un pazienza attenzione pignoleria allo stato puro quindi non so come cazzo fai ma poi le luci le hai curate benissimo tu ricordo in quel video cioè le luci sono la cosa che mi ha più impressionato nel tuo video grazie mille più che secondo me più che pazienza e concentrazione perché se un attimo ti distrai magari perdi non posso dire il feeling del movimento magari sei a metà di un movimento ti distrai e perdi il filo sì ma io penso sia anche banalmente quell'arte dove se dai un colpo di piedino piccolo al tre piedi con la luce è finito è finito tocca ricominciare via sì 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 tocca ricominciare via comunque ti auguro un bocca al lupo è bello bellissimo avete qualche consiglio per io ti consiglierei scuola studiare cioè andare con professori che ti fanno effetti che hanno fatto stop motion che hanno realizzato delle robe in stop motion anche in Italia qualcosa si è mosso sono state fatte le robe ne escono una ogni morte mi papa però ci sono dei professori che effettivamente ti potrebbero consigliare come fare la stop motion materialmente e come progredire nella tua nella tua arte però devi andare in una scuola secondo me l'autodidattica è importante però è importante anche farsi istruire da qualcuno che ha già fatto qualche cosa poi ma anche perché la scuola magari ti dà dei contatti anche magari ti fa oh ma sei bravo ti fa anche lavorare però e qua vale molto l'autodidattica però deve esserci la scuola anche all'estero se non trovi niente in Italia però c'è avere anche le risorse economiche per andare all'estero e studiare una roba del genere c'è da dire questo sì la cosa che preferirei di più di tutti è appunto anche essendo stop motion non andare troppo in giro nel senso quello che faccio posso anche farlo qua da casa eh sì e no secondo me sì e no secondo me sì sì è vero ti servono anche dei set importanti quando arrivi a fare delle produzioni grosse però si passa alle produzioni triple A che è un discorso un po' diverso però ecco per imparare qua c'è qualcosa ma è meglio fuori anche banalmente forse in Francia c'è qualcosa di più rispetto all'Italia in America ovviamente c'è c'è di tutto grazie mille tesoro alla prossima ciao 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 eh sto era molto pacato ho fatto tranquillo ho sentito lui fa si vede che fa stop motion perché si mette lì tranquillo cavolo quella roba che me l'ha fatta vedere è un mio amico veramente fantastico veramente sì fatto bene dai il prossimo il prossimo eccoci ciao 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 buonasera ciao ciao Marcello io sono un musicista oh vedi io non so un cazzo in musica zero assoluto faccio schifo al cazzo qual è la tua canzone preferita Dario The Final Countdown mentre invece la tua Ospitone la canzone di più mi pare è una bella è di un artista islandese non credo che venga conosciuta da molti in live quindi fai un po' il ritornello com'è dell'artista islandese devo cantarla eh sì se vuoi vai eh oddio è la tua preferita ehm eh sì non so fallo a hum fai tipo eh fai così che bella voce è un keep up idol falla saltando adesso saltando no perché magari muovendosi era anche un po' più performante complimenti bravo bravo bellissima voce grazie eh vabbè tu cosa suoni invece io sono laureato in chitarra pop wow ok hai la chitarra lì con te sì facci sentire qualcosa ok facci sentire un tuo pezzo ce l'hai? un mio pezzo sì però è strumentale faccio prevalentemente musica strumentale vai 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 facci sentire un'aria un'aria dai spara un'aria posso fare qualcosa di cantato al volo se vuoi sì sì vai 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 questo è Gerudo Valle però avvicinati avvicinati un po' silenzio avvicini il microfono metti il microfono alle casse della chitarra non alle casse vabbè hai fuori che ci sono questa è una chitarra pop beh sono un attimo questa è una pubblicità di scarpe di pelle tipo ce la vedrai bene di solito sì l'Humberjack però 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 la pubblicità di televisioni cittadine non non esatto lunghissime i fermi immagini che poi switchano così anni 80 sì sì ma ancora ci sono comunque sei molto bravo è soprattutto una bella voce ecco però la domanda chiave che si fa sempre esatto vuoi fare il musicista qua in Italia non più nel senso che musicista è un termine relativo ci sono tanti lavori nella musica ok tipo e cosa vorresti fare vuoi fare il tuo album vuoi suonare alle feste no ma no è una cosa che avevo in mente con il fonico suonate cose ma quindi non non ho più non ho più in mente quello però mi piacerebbe produrre arrangiare sono arrangiatore sono diplomato in arrangiamento vedi quello che dissi arrangia me ma ok quindi vorresti anche scrivere pezzi per altri volendo fare l'autore a voglia sì sì ormai sì ormai perché ormai lo stai già facendo quindi sì perché è complicato fare roba propria in Italia se è difficile più che altro è una cosa che mi piace scrivere e arrangiare è una passione che ho sviluppato nel corso degli studi quindi preferisco fare questo dopo due studi hai detto che ti sei laureato in chitarra pop dopo questa cosa qua come ti sei mosso a livello anche solo di boh mi sono fatto uno studio cosa hai pensato di fare? sì esatto ho fatto uno studio dove ho cercato di racchiudere più cose possibili per raccimulare qualche entrata in più io facevo il videomaker prima quindi ho cercato di portare avanti anche quello perché nella musica è complicato guadagnare soprattutto dopo il covid è stato veramente una botta forte 70% in meno anche dopo l'11 settembre tra l'altro eh sì è il crollo del muro di bambino non va dimenticato bravo è un po' troppo vecchio esatto no comunque sono contento perché lavorare come autore ma hai fatto anche pezzi per autori famosi cioè si possono fare dei nomi oppure ancora no stai facendo gavetta no ho collaborato con non so sono professori che erano nel college musicale dove ho studiato e magari ti prendono sotto la loro ala che sono come dicevi te prima sono musicisti sono musicisti che suonano con con magari artisti però con gli artisti artisti ancora non hanno lavorato è complicato arrivare lì comunque sono contento perché a parte che mi sembri bravissimo la voce c'è totale quindi hai anche gli obiettivi chiari hai già iniziato i lavori chiari quindi chissà dai spero speriamo ti posso fare un'ultima domanda la musica è un sogno o aiuta a sognare la musica è il sogno mio padre è zitta spento qui qui t'ha spento grazie mille tesoro grazie davvero ciao Marcellona ciao Marcellona grazie a voi ciao ragazzi grazie ciao è il sogno l'ha fregato qua ammetto non c'è niente che potrei immaginare di meglio vabbè andiamo col prossimo Marcellona qualcuno? sì sì sicuramente sì chi vuoi? oh figa chi è questo? ciao ciao dimmi tutto ciao sono Lorenzo sono un fotografo tutti l'abbiamo beccato animatore stop motion musicista fotografo e il primo era era programmatore 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 writer tutto tutto dimmi tutto io scatto a pellicola scatto a pellicola e mi piace un botto quindi un po' una ventata vintage bello se tu così puoi dire ok non ti prendono per il culo a scuola per questo? a scuola? zio ho 30 anni ok da quanto l'hai sviluppata questa passione per la fotografia sviluppata? c'era il gioco di ferro complimenti allora per la fotografia da quando ne ho 19 ho cominciato a farla in digitale però poi la mega rapidità del digitale non mi lasciava mai soddisfatto cioè io facevo 300 foto non me ne piaceva neanche una cavolo e poi piano piano Marco è colpito da questa cosa c'era la possibilità di scattare a pellicola e rallenti per forza perché hai un numero limitato di esposizioni e puoi ragionare di più puoi stare in contatto col soggetto no più che altro la domanda sorge spontanea come mai hai deciso di passare alla pellicola cioè cos'è che ti ha affascinato il fascino vintage oppure l'ha appena detto come l'ha appena detto sì che si scuola no in realtà parzialmente ma non credo che sia solo perché non voleva eliminare perché sennò doveva eliminare tutte le foto ora è gentile trova altri motivi dettaglia di più Lorenzone praticamente mi piace perché ho detto perché rallento e perché non lo so mi dà proprio una vibe diversa mi fa connettere col soggetto sostanzialmente vedi che c'era altro dio madonna era quello che ve lo senti perché si connette col soggetto cosa fai dopo con le foto così analogiche come sviluppi tipo le appennie nella stanza come ci lavori con queste foto praticamente vanno sviluppate che sembrava ricatto cosa ci fai una volta che il negativo lo puoi scansionare tranquillamente e convertirlo in un file digitale senza alcun problema ok poi anche stamparlo chiaramente come si faceva in camera oscura e tutto quanto però dovresti avere una camera oscura a livello lavorativo come cioè le tue foto avranno una qualità particolare nel senso è riconoscibile il fatto che sono analogici diciamo sì perché paradossalmente la differenza è che la fotografia digitale sfacca il pixel nel senso se metti a fuoco una macchina digitale tu non sbagli la messa a fuoco con quella analogica è un po' più soft è un po' più perfettibile ed è più simile all'occhio umano perché molte volte capita che non si sia perfettamente a fuoco su un soggetto e secondo me quell'imperfezione ma non voglio fare il filosofo però quell'imperfezione gli dà un gusto diverso ma è figo ma scusa quali sono i tuoi soggetti preferiti cosa ami fotografare le persone le città o bo a me piace moltissimo la ritrattistica è da un po' che sto provando a muovermi anche in altro perché bo sento di voler sperimentare però faccio sempre ritratti perché mi piacciono le storie delle persone la cosa che dicevo prima di connettermi col soggetto è anche figo quando per esempio chiedo foto agli sconosciuti mi capita e gli domando magari se hanno voglia di fare quattro chiacchiere gli spiego perché mi ha attratto la loro persona in quel momento e dico posso ritrarti se ti fa piacere se mi dici di no non lo faccio è diventato che ho visto un trend su tiktok questa roba qua di fermare le persone mi colpisci posso farti un video posso farti delle foto hai trovato hai trovato da far bene facendo così ma in realtà ho trovato un paio di vaffanculo che ho trovati tranquillamente senza intendevo qualcosa di romantico qualcosa magari no ho trovato un sacco di storie fiche ad esempio ho capito spesso che quando vado in viaggio con la mia ragazza se non vedo una scena perché lui vuole chiederti se si scopa con la fotografia 100% sei bella ti faccio una foto raccontami la tua storia ma scusa ma è fantastico però infatti quando hai detto eh no con la mia ragazza lui fa ecco buon per lui però la mia ragazza l'ho conosciuta una serata in cui ero fotografo eccoci qua vedi si torna sempre lì eccoci qua ma hai fatto anche dei set fotografici su di lei nuda no no oddio in realtà vabbè eccoci qua alle foto gliele ho fatte sicuramente il problema è che spesso è difficile anche ci vuoi dire l'instagram della tua no dai ma si scherzo sempre alla base alla base va bene comunque sei soddisfatto quindi stai lavorando col tuo lavoro cioè con la fotografia in realtà io di lavoro di lavoro faccio il social media manager però per un'azienda di fotografia analogica quindi ho un po' messo insieme le due cose poi provo a farmi vedere anche al lato nel senso che instagram lo curo molto ho un piccolissimo canale youtube che sto portando avanti conciliandolo con una vita lavorativa continua quindi ci si prova divertirmi mi sto divertendo beh infatti ti sento entusiasta ci puoi dire il tuo instagram così se ti vogliono seguire posti le tue foto su instagram credo no? sì sì certo certo è un account quasi solo di fotografia dai dici un po' come si chiama l'account è shoot it and see scritto shot it and see in inglese ok semplice dai se cercate nome e cognome Lorenzo Martinoia mi trovate Lorenzo scusami Martinoia Martinoia ok grazie mille Lorenzo figo grazie a voi buona serata prez vai ciao ok che ci manca ora uno scultore ci vuole uno scultore sì sì ma tutti erano contenti solo che no non tutti dici non molto qualcuno era un po' più scoraggiato mi piace però insomma domani non so non so se arriva domani mi sveglio freddo c'è qualcuno sì ciao ragazzi mi iniziano tutti così sì sono stupiti non pronto ciao come i cani vai dici dici allora sono Nomiem preferisco nome d'arte che ancora non è arte ok dice il nome e cognome intanto dai no scherzo sono Biagio ciao Biagione Biagione dici un po' dai sì allora io entro come scrittore ecco mancava mancava bello bravo oh allora lo scrittore noi Dario avevamo anche già parlato però sì certo ricordo perfettamente comunque no beh fondamentalmente io ero entrato un po' per parlare in generale di letteratura no sì no letteratura no no è un rompere la picchia hai avuto il programmatore l'hai fatto parlare ora lui no no lui no perché comunque ecco sto numerando allora prima Marco ha sottinteso che c'era qualcuno che non lo convinceva tanto e ora con questo secondo indizio sappiamo che è il programmatore vabbè cosa scrivi di bello cosa scrivi di bello la domanda peggiore cazzo vabbè vabbè assurdo dai attualmente sto dirigendo due progetti ah ok uno personale e uno che diciamo no vabbè non mi di le poesie perché sennò mi incazzo seriamente eh cosa intendi con personale nessuna poesia fantasy fantasy no peggio peggio ma ci metti del tuo cioè la tua vita la un po' traduci in fantasy o di quello che ti viene viene siamo verissimo in questo la duco molto diciamo che mi piace esplorare il tema della metanarrativa ah ok quello che più mi interessa approfondire il rapporto con il lettore lo scrittore attraverso il fantasy come? attraverso il fantasy questo? eh sì perché diciamo era tutto partito come una storia che avrei lasciato per il futuro e poi da grande avrei ripreso con le competenze giuste per diciamo scriverla al meglio poi l'ho diciamo concretizzata adesso devo cercare la pubblicazione il prossimo mese cercherò di proporlo ah lascia ok quindi mandi diciamo il manoscritto a tutte le case editrici sì ok ok ti auguro perché ti auguro un boccalupo grosso perché non è facile il fantasy in Italia è tostarello eh ci sono quegli autori quei pilastri che vengono stampati sempre ma poi ci si ferma un po' lì ho letto anche un fantasy che gioca molto sul sulla metanarrativa ed è ovviamente un libro dove ci sono dentro degli orchi giapponesi degli oni e sono molto feroci e insomma si gioca tutto su questo cosa Marco niente ah ok no no oni feroci sono e e e nulla si gioca molto su questo aspetto che l'uomo e l'oni e poi sono feroci ma allo stesso tempo sono anche molto sensibili molto interessante poi te lo consiglio in privato questo a te hai avuto esperienze di scrittura ma si come tutti ho scritto della roba ma non non ho avuto l'ambizione di andare più in foto ok hai mai pubblicato qualcosa indipendentemente indipendent indipendentemente si da indipend da indipendente da autore indipendente da autore indipendente non so perché non ci usci è ben morto io si no no quello dietro di Jake pensavo parlasse con Wesa no io purtroppo non ho avuto modo di pubblicare però attualmente il secondo progetto che sto dirigendo è pubblico non è una pubblicazione diciamo pagata e disponibile però comunque sto dirigendo il progetto Stagnazione insieme al collettivo degli Eredi dell'Anima cos'è? cos'è? praticamente Dark Souls sì ho preso le live di Sabaku e Saedonia le Veteran Run e ho tradotto in letteratura ovviamente prosa i momenti che diciamo rappresentavano di più il loro roleplay e simili ci sta come vedo le tue reazioni però quindi è una relazione normalissima scusami ma hai messo in prosa Mike of the Desert sì fondamentalmente per un po' di gavetta per comunque cercare ancora di studiare il mio stile anche perché non lo so ero venuto avanti per chiedervi questo cioè voi come vedete la figura dello scrittore nel diciamo in questo periodo perché io sono appassionato di Medioevo e comunque ho sempre visto grandi scrittori come un Dante anche un Leopardi che non è propriamente Medioevo no Leopardi no per niente e quella figura secondo voi è un po' morta cioè la figura dello scrittore Leopardi è morto sì sì è morto di gobba come dice no sì è morto scusami secondo me è proprio morta è sepolta la figura dello scrittore la figura se mi permette di dirti questo se tu ti rifai al mito dello scrittore novecentesco caschi malissimo eh sì ma proprio male 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 perché non li legge più nessuno io per esempio leggo solo saggi non si leggono più così ma è per questo che bisogna usare una piccola esca mediatica quale narrare le gesta di Sabau piuttosto una buonissima idea oggi se vuoi se vuoi avere un bel posto in prima fila in libreria è meglio che tu abbia un bel po' di follower quello funziona molto ah sì no ma ovviamente io cioè tengo separati i due progetti quello mio è proprio personale diciamo non ne parlo quell'altro invece è stata un'idea che loro hanno approvato hai avuto hai avuto il loro benestare quindi eh sì sì ne avevamo parlato figo figo diciamo mi hanno dato la benedizione insomma però comunque sì l'altra è completamente distaccata ma quindi pubblicherai le avventure di Sabau e Saidonia in prosa pubblicando ufficialmente cioè un libro stampato oppure un acquisto online ah no 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 ovviamente non posso ne voglio monetizzare tutto su un drive quella era un'altra cosa quella era un'altra storia esatto come si intitola il libro che pubblicherai fra un mese si intitola l'avventura infinita l'avventura infinita l'avventura infinita ah infinita ok il contratto è un riferimento leopardiano non c'è a che fare con la storia infinita ok allora ti auguro un bocca al lupo insomma hai già un target cioè quale sarebbe la tua casa editrice ideale per pubblicare una roba del genere eh purtroppo non sono pratico quindi mi sto informando un pochino eh un pochino sì dai mi sembra di aver letto che Rizzoli pubblicasse molto gli sordienti però devo veramente studiarla bene perché no prima di mandare i manoscritti studiatele bene perché conoscere la policy di ogni casa editrice è fondamentale per pubblicare se no non se ne esce e poi punta anche le piccole cioè Rizzoli grossa tu cerca magari le piccoline che fanno le piccole cose fantasy insomma che possano dare che si basino sulla nicchia insomma magari puoi partire da lì Marco vuole raggiungere qualcosa no? no 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 mi piace ascoltare questa ok va bene grazie mille allora tesoro grazie grazie Mario posso un'ultima cosa dimmi nel libro ci sei anche tu io ti denuncio no nel senso in una versione proprio sei sei una guida uno spirito un lume non tu tu va bene valuterò con gli avvocati se c'è margine per scherzo va bene poi mandamelo anche a me dai allora mandamelo scusami come si chiama il lume? devo ancora svilupparlo bene però vabbè vincchia un mese attento va bene grazie mille mandamelo comunque voglio grazie mille per lo spazio niente grazie a te tesoro ciao tesoro ti abbraccio forte ti abbraccio forte buona serata fantasy vabbè meglio del programmatore sicuro consiglio anche per le videochiamate con le case editrici un microfono nuovo che potrebbe essere sempre ben accetto che è un po' spilluzzicante che rompimento di coglioni eh lo so sono un po' rompo un po' il card chi c'è? chi c'è? ciao ragazzi ciao dimmi come ti chiami? figo eh piacere sono giuda figo si chiama figo no dimmi dimmi tesoro no magari magari però lo so non lo so no comunque giuda computer? giuda? non ho capito come si chiama computer non ridami computer bello come ti chiami? computer sensi è il nome di un rapper anni 90 computer oddio mi casca che bicchiere dimmi dimmi computer computerone dimmi computerone il computer è qui per farvi un po' di domande molto veloci e semplici dimmi nel senso che io nella vita sono un disegnatore illustratore ok che ho trovato a postare i propri disegni sul web e tramite più botte di non so se si possono dire culo culo vabbè ci sta è riuscito ad arrivare a costruirsi una sua fanbase di circa 220 mila persone oh boia questo però mi ha portato un po' di problemi nel senso che comunque per continuare a rimanere sulla cresta dell'onda secondo me i social ti mettono davanti a un quesito postare 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 la costanza quindi mi sono iniziato a porre un po' di problemi sull'ambito creativo nel senso io voglio mantenere una qualità alta o comunque presunta tale per me tolto quindi non scomodiamo carica l'inverti dove per lui solo dio è creativo comunque la stampa dove magari intervistandomi mi hanno presentato come giusetò il ragazzo creativo e io ho risposto come un beh non oggi perché secondo me la creatività è un po' come una lampadina che si accende si spegne e a me dal mio punto di vista impossibile mantenerla sempre accesa quindi sei un po' contro i ritmi incessanti dei social che ti obbligano a postare tutti i giorni per aumentare la tua fanbase o mantenerla comunque esatto quindi secondo voi si può essere creativi ogni giorno e soprattutto la creatività secondo voi è un qualcosa che si può notare da quale elemento perché io per esempio ho notato come in un anno sono stato contattato magari da case editrici altri altri che lavorano nel settore pur pubblicando magari le stesse cose che postavo un anno fa e quindi in quel caso sono stati etichettati come una persona creativa allora io senti per me la creatività può esserci ogni giorno però io tutti i giorni sono a contatto con persone che in un certo senso monitoro comunque consiglio eccetera quindi diciamo che ci sono tanti creativi con me che fanno roba disegnano eccetera quindi io sono stimolato sempre a loro io stimolo loro quindi ogni giorno vivo a contatto con la creatività però questo è un discorso diverso perché fare una canzone al giorno fare un disegno al giorno fare un video al giorno penso che possa essere un po' alienante a un certo punto lo fai quasi a macchinetta non è più il prodotto infatti ti aspetti tanto tra un video e l'altro Marco infatti io vi ho risposto esattamente come stai dicendo tu cioè dipende intanto dall'arte che fai e da come sei tu cioè io posso fare un video al giorno ma e mi piacerebbe anche ma a me piace di più raccimolare info proprio di vita nel corso di anche mezzo anno e poi fare un video che è nella diretta traduzione per te invece non lo so magari potrebbe come fai te potrebbe dotarsi di un team magari avere più creativi sotto il suo brand oppure mettere dei work in progress prenderò un sacco di cose nel senso se tu sei un di ma lo fanno in tantissimi su instagram una sorta di factory sì oppure fai work in progress che sono con te cioè magari tu posti ogni giorno ma l'opera è vero per opera una volta alle settimane magari c'è il percorso che porta verso quell'opera lo condividi oppure puoi creare un personaggio di te stesso e quel personaggio occupa il vuoto tra un'opera sono molti molti trucchi per star dietro al ritmo della pubblicazione giornaliera che anche per me è brucia è un compromesso tremendo per un creativo io forse con la factory sarebbe ancora più alienante mica sono nano in questa inquadratura meglio così sarebbe ancora più alienante perché la factory ti snatura ancora di più perché non sei più dietro alla tua cosa è tipo un team di persone che si occupano dei tuoi personaggi tipo i simpson no a un certo punto mcgroning aveva inventato la famiglia simpson lo spirito dei personaggi e tutto e poi un team di sceneggiatori registri e tutto creava le serie dei simpson poi ovviamente c'era la supervisione e tutto però la supervisione a volte non basta a volte la devi fare te in prima persona capito ma scusa te proprio non hai mai pensato di prenderti dei tempi delle pause per vedere che effetto vi fa che effetto fa su quello che disegni te assolutamente sì e cosa è successo nel momento in cui ho preso delle pause sicuramente a livello qualitativo ma anche a livello di stato mentale me la sono vissuta molto molto meglio tuttavia sono cascato un po' nella trappola dei social nel senso che comunque quei numeri ho visto come erano calati da un giorno all'altro pur ripostando magari qualitativamente prodotti secondo me dal mio punto di vista molto molto migliori e poi ho lì banalmente me ne sono fregato perché lo faccio perché mi piace pubblicare quei disegni perché mi piace disegnare perché comunque però dal punto di vista lavorativo l'ho visto come un impatto negativo diciamo ok quindi sei tornato ai ritmi quotidiani sì diciamo di sì ok minchia che inculata non credevo fosse così mi viene in mente non so tu che cosa fai a che livello di complessità mi viene in mente Sio Sio è uno che io penso che lui lavori di archivio non ne sono sicuro però lui ogni giorno posta una nuova striscia però è abbastanza asciutta fa anche dei blocconi ogni tanto che gli occupano una settimana intera esatto esatto immaginavo come video lui registra la voce basta un animatore sì 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 e quindi te sei un bivio sei qui per chiederci un consiglio oppure hai già preso una scelta e sei qui per una conferma in verità io volevo sentire la vostra su questo fattore della creatività ok e se anche voi in tempi appunto non sospetti quando magari erate davanti un pochettino di fama perché letteralmente tiktok come questi social ti esplodono in mano e tu non sai come gestirla da un giorno all'altro se non sei nessuno letteralmente e quindi voi se i primi giorni avete un po' ecco avete quel non so il timore del dover postare tutti i giorni dover resterci mantenere la presenza dei numeri venire se siete fregati più aspetti più è difficile tornare questa è una regola che ho imparato veramente a mie spese è sempre così il problema di internet è che ancora non c'è un tutorial su come gestire la fama quando come detto tu ti esplode in mano però a mio parere io c'è stato un periodo dove ho postato tanto solamente perché mi era arrivato tanto di fama ed è anche interessante vedere come si amorfa la tua arte dipende dipendentemente da cosa ti è successo online ma devi sempre tenere presente come la gestisci tu cioè dipende veramente da come tu traduci quello che ti arriva e che quindi trasformi in arte e questa è veramente la cosa più importante dovrebbe essere un po' dovrebbero essere un po' le fondamenta su cui basare poi la tua carriera e il tuo ritmo perché quella è la cosa più importante secondo me un po' sballare i ritmi e sballare la tua arte ma anche perché poi magari viene preso da fattori quali la costanza forzata di internet poi la guardi e ti fa un po' schifo da sola la tua stessa cosa questo è pericoloso dovresti stare attento e dovresti proprio pensare a quello che è il tuo ritmo secondo me è molto unico di tutti quanti perché anche come dicevo questa prima dipende da tante cose da cosa fai, dallo stile, da che persona sei tu che sensibilità hai, che cosa stai postando, qual è il tuo obiettivo, mille cose io credo che lavorando su Twitch ogni giorno quindi facendo live ogni giorno io cerco di far venire il mio pubblico ogni giorno per non perdersi quello che sto facendo quindi martedì ospite sempre diverso, un ospite sempre figo di un mondo diverso mercoledì un fumetto sempre diverso però ovviamente la live eccezionale quella da 10 su 10 ti arriva una volta ogni due settimane, ogni mese quindi secondo me potresti lavorare così, potresti lavorare con ok sono cosciente che devo postare tutti i giorni non tutte le mie vignette saranno brillanti al 100% però quelle 10 vignette al mese, 5 vignette al mese bomba o pagina fumetti bomba le faccio sicuramente perché comunque su quelle magari concentro di più le mie forze mentre con il resto faccio le altre per andare a tamponare il bisogno social che ho che ha la mia casa editrice, questo è forse l'altro consiglio che posso darti ecco morto, benissimo no ok grande stavi dei complimenti sicuramente anche mia mamma vi ringrazierà perché mamma? ma perché è disperata, mi vede sempre a lavorare qui ma quanti anni ha la mamma? la mamma ne ha 56 allora è peruesa dai comunque dai dai, comunque ti saluto tesoro mio, grazie allora in bocca al lupo, complimenti complimenti perché comunque insomma il tuo successo ce l'hai quindi va buono grazie ciao tesoro ciao ragattuna ciao 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 sa che abbiamo tempo per l'ultimo poi abbiamo fatto speriamo sia qualcuno interessante beh se l'ha sempre col programmatore ragazzi qua non è il programmatore ok era quest'ultimo no 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 lui è un grande è entrato qua a mente aperta pure tu ti sei alzato perché ti faceva male il culo? sì no più che altro i piedi no non ti faccio entrare Francesco che c'è? l'ultimo dai no lo scrittore no lo scrittore era lo scrittore poi io sono curioso di leggere che la mia parte è lume che potrebbe essere interessante ma io non ho capito se tu eri nel libro con Sabaku o nell'altro no 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 nell'altro a me avrebbe molto infastidito quella cosa perché? pronto? aspetta un attimo che finiamo questo discorso tesoro perché? no no fermiamolo no dai dimmi dimmi chi è? dai va bene dici ciao ciao buonasera ciao Uesa ciao Dario ciao ma addio ciao Croix eccomi Croix sta riprendizzando era Marco Merrino ciao Marco sono un po' agitato scusate non avevo capito se mi avevano sbattuto fuori perché non c'era più tempo o se no non abbiamo tempo sei l'ultimo sei l'ultimo no albanese ha detto sì no non è vero sì no vabbè non ho capito nulla vai buonasera sono un animatore ciao ciao ah non è mai ok perfetto sono un animatore 2D ho lavorato da un anno e mezzo in un piccolo studio a Milano naturalmente il disegno l'arte l'animazione sono la mia passione ma non era di questo che volevo parlarvi questa sera e volevo discutere con voi ma era sul tema dell'arte con gli animali antropomorfi e dell'arte furri dio povero però ragazzi cioè come i furri ma i furri che scopano o normali ma che cosa perché pensi no dimmi dimmi vai fino in fondo i furri che scopano o normali no ma è la superficie in fondo scopano la superficie vivono non è detto magari è una cosa alla Zootropolis no fai ballare lui voglio chiedere a tutti e tre cosa immaginano quando dico la parola furri perché io penso a un lupo col cazzo gigante che sventra un coniglio ma il furri non era un gioco ma che dici no quello era furbi furbi scusate i furbi erano furri di base io vorrei aiutarvi a prendere in considerazione questo mondo no io non ce la faccio meglio depilata vabbè parla con Marco dai Marco no no ti do un attimo di contesto io sono passato anche tu non ti ricordi naturalmente ma sono passato anche al Games Week a proporti questo tema sulla storia del fandom e tu eri schifato come adesso no ma non è che sono schifato voglio usare un minuto aspetta aspetta ti faccio parlare però devo capire solo una cosa si parla di porno erotismo no ma chi l'ha detto furri non è porno non necessariamente mi definite furri scusate furri vaporeon antropomorfo che ciuccia i cazzi però questo è furri porno ma non è vero ma che cazzo è un vaporeon ma non è vero che cazzo è un vaporeon ascoltami no perché non ha ancora parlato lui non ha risposto si parla di furri normali tipo Zutropolis che cazzo ne so io il fiuto di Sherlock Holmes vaporeon oppure del porno ma è un cazzo di pokemon di entrambi fanno parte della categoria ma nel senso che furri significa fan degli animali antropomorfi in generale è come dire otaku per usare un termine anche sbagliato ma come dire fan degli anime e dei manga furri è il fan degli animali antropomorfi in generale quindi si però che lo usi come paraculata per poi vederti le pecore sventrate dai cazzi di la verità ma allora e tu non guardi i hentai è la stessa cosa non è la stessa cosa è un po' io andrò fino in fondo in questo discorso va bene dimmi dimmi parlando del fatto che secondo me sono assolutamente sullo stesso piano e io sono sempre non guardare furri un cellulare sono sempre stranito quando nelle live è successo diverse volte si usa il termine furri soltanto per fare una battuta e non lo si mette mai sullo stesso piano dell'arte invece e del disegno stile anime allora io posso allora io su questo sono d'accordo con te allora io non sono in guadaglia no 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 attento attento ho tolto io sono d'accordo con te da questo punto di vista perché ci sono prodotti riconducibili al furri vedi appunto il future Sherlock Holmes vedi appunto Zootropolis gli esempi mainstream ma c'è anche quel manga c'è un lapsus tremendo Beastars è uguale quelle robe lì ok il problema è che molti di voi fanno questo discorso per rompere i coglioni a chi vi prende per il culo se facciamo delle battute sul fatto che vi segate sì ma tu è stata la prima cosa che hai detto perché lo conosco lui è venuto me lo ricorda la games week perché lui vuole 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 farsi le seghe su un cigno che in realtà c'ha il cazzo fagli fare le seghe su quello che vuole ma infatti va benissimo ma io non Dario il punto è questo tu non mi spiace che pensi che io abbia un altro fine il mio fine non è giustificare quello che faccio beh convincermi io non mi segherò mai su quelle ma non è vero io voglio fare questo non è questo il mio obiettivo il mio obiettivo è solo far riflettere sul fatto che ci sono un sacco di cose che hanno a che fare con la storia del fumetto in generale con la storia dell'animazione in generale ma che sono fanno parte del furio ma non parlo solo dei grandi esempi ma parlo proprio per esempio se si parla di fumetto erotico o porno o ma la gattina ballerina è un esempio che di solito si cita quando si parla della storia chi? o ma la gattina ballerina qual è il punto? non lo so io vi invito a dare un'occhiata no che lui allora te lo dico il punto è che i furi vengono presi per il culo per l'aspetto sessuale no? perché molte persone sono gli entai con gli animali sono gli entai con gli animali sì e quindi c'è ironia su questo vabbè uno si farà le seghe quello certo però siamo liberi anche di farci ironia no? beh certo speriamo questo sì però lui dice cazzo purtroppo tutto l'aspetto ironico satirico diciamo così del furri pornografico ha offuscato la storia dei furri nella storia dell'animazione e del fumetto e io posso essere anche d'accordo ma lui con la storia dei furri nella storia dell'animazione intende che l'animazione diciamo ufficiale mainstream ha degli elementi da cui nasce il furri quella che coinvolge ma lui non ha detto niente di questo non ha detto niente del genere io sto scoprendo il sottotesto come te col caffè è lo stesso discorso tu stai prevedendo qualcosa che lui non ha detto no come non l'ha ascoltato bene non l'ha detto io ho detto ti seghi sui furri lui fa non voglio parlare di questo furbamente perché no perché non vuole parlare di questo io ne parlo molto volentieri possiamo parlare per esempio di un artista incredibile che vi invito a cercare Tabulei con la Y ah mio padre io credo che sia un animatore impressionante che Dario apprezzerebbe molto perché vorrei farvi aprire la mente sul fatto che ok yentai ma ci sono un sacco di possibilità che si aprono al fatto di usare gli animali antropomorfi vedi che te l'avevo detto e mi scivolava a far segare ma che cazzo è ma no si può apprezzare l'arte del disegno e dell'animazione ma io non ce la faccio a vedere ma non è così spinto sto tizio no lui è l'autismo ha detto ma sono disegnini no ma ok allora io io non ce la faccio allora ti dico com'è che ti chiami scusami ho perso il nome Lorenzo io sono però ho trovato lui ah no lui non c'entra nulla non so se è furri no non è furri cosa sia furri ascoltami io sono d'accordo con te al cento per cento però secondo me cosa sei d'accordo sono d'accordo sul fatto che l'aspetto erotico o porno del furri non deve assolutamente offuscare a me interessa molto ma perché la gente voglio chiedere al nostro amico eccoci che cosa ti attira del furri porno no ok possiamo partire ah del furri normale vai vai perché il furri possiamo partire da un discorso generale o da un discorso personale quello che ti pare tutto nasce spesso dall'adolescenza dove ma questo succede anche in generale per i fan dell'animazione o degli anime per questo dico che sono correlate le cose perché a volte si rimane nel periodo dell'adolescenza dove si cresce dove si cambia si rimane comunque legati a delle cose di quando che ci cioè tipo perché io apprezzo gli entai perché ovviamente ho sempre voluto vedere quei personaggi nudi perché magari ho visto Ram mi piacevano i personaggi Ram personaggi femminili chiaramente quindi l'entai è stata quella versione lì i furri sono cioè gli animali sono un luogo sicuro dove sviluppare i propri interessi da quel punto di vista perché sicuro cioè come un luogo sicuro è lo stile il cartone il disegno ah nel senso che ti senti a casa da un punto di vista stilistico e te cosa hai visto che nell'adolescenza ma perché l'animale scusami perché l'animale ma io il primo personaggio su cui mi sono fissato che è una cosa abbastanza strana è Brian Griffin disegnavo solo Brian Griffin il cane mi ero innamorato del cane dei griffin guardami in faccia guardami in faccia hai da dire qualcosa adesso hai da dire qualcosa o no no voglio fare i fini discorsi e poi dico la mia Brian Griffin posso chiederti se hai avuto un animale domestico da piccolo sì ah no è quello ma non c'è niente di male ma che c'entra ma no è quello c'è una differenza abissale non è quello non per forza no ma non c'è niente di male io non giudico è semplicemente bisogna è archeologia del piacere ok quindi a me non voglio fare kink shaming assolutamente però vorrei capire lo stai facendo da mezz'ora sì sì perché mi fa troppo ridere attenzione non è un kink cioè come dire che uno che guarda gli entai è un kink l'entai però l'entai è basato spessissimo e volentilissimo su ragazze che di certo non sono disegnate così nella vita vera però sono conformate in quel modo non esistono ragazze pelose in tutto il corpo tipo tope tipo nel senso tope ratte ragazze ratte non esistono Brian Griffin ma perché ti eccitava Brian Griffin non mi eccitava non mi ha mai eccitato e per questo dico che non ha per forza una connotazione sessuale mi amavo proprio il personaggio il fatto che fosse un cane ma che fosse così saccente intelligente ma lo stesso sempre si drogasse cercasse sempre il sesso l'adolescenza le pulsioni il crescere il cambiare lo voleva vedere nudo scusa no il senso è che puoi far puoi scoprire la sessualità in un ambiente sicuro in un ambiente creativo però aspetta aspetta scoprire la sessualità ma tu stai cercando di rascondere il fatto che è per le seghe cosa? cioè stai cercando di rascondere il fatto che è il furia per farsi ma a me ora intriga che non c'è niente di male lo dico con l'affetto ogni cosa strana a me interessa perché mi affascina soprattutto c'è gente così convinta e i furri hanno fra la gente più convinta del mondo dico solamente che secondo me scoprire addirittura la sessualità in un ambiente sicuro sicuramente è sicuro dal punto di vista che nessuno ti prende in giro se fai parte di un club ovviamente se fai parte di un fandom ma minchia qualcosa di importante come sviluppare la propria sfera sessuale in un ambito dove esteticamente non ritroverai mai niente di simile nella vita vera non pensi sia particolare mente pericoloso o potenzialmente pericoloso no la cosa più simile nella vita reale non può esprimere consenso c'è una differenza enorme fra l'animale adesso mi viene il termine fra l'immaginazione cioè qualcosa di completamente non reale di completamente slegato dalla realtà ed è questo il suo bello che poi è la fantasia cioè sviluppare la propria fantasia anche in quel senso ok poi per quanto riguarda la perversione riguardo alla propria sessualità anche nella vita vera naturalmente non è quello cioè non è che uno cerca nella realtà di farsi un animale ma il punto è perché c'è una percentuale maggiore di persone queer per esempio nei fan anche degli anime ok c'è una percentuale maggiore anche nei fan degli animali antropomorfi perché qual è la domanda la mia domanda è perché c'è una percentuale maggiore di persone queer e per esempio anche per esempio se penso ai fan di Dario Moccia che naturalmente coincidono in parte con i fan dell'animazione giapponese e del fumetto c'è una percentuale maggiore mi sembra di vedere di persone non etero sì ma cosa c'entra con cani che scopano questo a me sfugge capito c'entra che se se hai dei problemi se ci sono delle difficoltà nel comprendere e nell'accettare se stessi anche a livello sessuale la propria identità può aiutare esprimere quella sessualità in un ambiente sicuro e decontestualizzato e immaginario come quello con il disegno e con l'arte ho capito questo è sicuro però quasi parlare di un tu scopri il tuo kink e allora lo esprimi in quel mondo là ma approcciarsi alla propria sessualità iniziando così io lo vedo potenzialmente dissociante e pericoloso allora io provo a tradurre invece mi sono state dette due cose diverse allora io provo a tradurre te dici che in adolescenza provando un grande fascino ma un fascino non sessuale per Brian Griffin quando sei cresciuto e quando hai sviluppato la tua sessualità hai voluto rivedere quello che rivedevi in Brian Griffin in altri contesti ovviamente più perversi ok e questa cosa qui questa zona di comfort ti ha aiutato tanto ad accettare la tua sessualità io sono l'eccezione che conferma la regola nel senso che non ho cioè io non ho dovuto accettare la mia sessualità perché sono etero e anche qui il fatto è questo non non è tutto per una sfera sessuale ok ok no ma quell'altra cosa l'ho capita e sono d'accordo con te te l'ho detto stavo passando al resto per esempio Tezuka si lui si ispirava alla Disney queste cose quel tipo di disegno e poi è pieno di porno è pieno no pieno ha fatto solamente alcuni esperimenti ma non è che è pieno di porno ma pieno di porno non suoi dici no 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 dico lui disegnava arte erotica anche con gli animali antropomorfi ma chi è questo? Tezuka è il dio dei manga ma degli esperimenti ci sono state anche l'animazione ha fatto degli esperimenti però non è che facesse tutto cioè fosse il suo argomento principale il suo tema principale però sì no ma su questo sono d'accordo sono d'accordo dal 100% cioè sul fatto che ci siano state cose altissime a livello artistico che possono essere ricondotte al furri sono d'accordo però da qui all'aspetto pornografico furri ecco ci sono me ci passano tre posso fare una domanda posso fare una domanda quali sono i confini del furri cioè lì tipo c'è uno slime uno slime è passibile di furri no furri deve avere un manto un manto un furro è proprio richiesto di sia peloso giusto Lorenzone la discriminante è solo è un animale a caratteristiche umane un animale la pimpa la pimpa è furri la pimpa io me la tromba anche un animale estinto tipo i dinosauri possono essere bella assolutamente assolutamente basta dargli caratteristiche umane per esempio il film di Don Bluth alla ricerca della valle incantata bellissimo prodotto da spi quindi spi quindi spilberg è furri ma allora anche io sono no perché furri è solo se ti identifichi come fan naturalmente come fai a vedere la ricerca della valle incantata non è non identificarti cioè è impossibile non identificarti no è nel furri è sì è complicato va bene mi rendo conto chiudo con una cosa però è interessante grazie perché è stato interessante dimmi 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 comunque è fighissimo dal punto di vista creativo perché le persone possono creare un proprio personaggio e cosa che non succede quasi mai nella vita di tutti i giorni crei il tuo forzone il tuo personaggio il tuo avatar da usare su internet per la maggior parte però poi vai a chiedere commissioni direttamente agli artisti per rappresentare il tuo personaggio in diversi contesti come uno vuole beh lo fanno anche su topolino con i personaggi con i VIP fanno le storie sui VIP e li paperizzano li topolinizzano no? assolutamente assolutamente anche quella è una specie di antropomorafizzazione vabbè prendi all'interno di un universo di un personaggio di una persona vera questo è fighissimo e è una cosa che non ho visto mai da nessun'altra parte nessun altro fandom questa ricerca anche del disegno dell'arte e della committenza diretta con gli artisti trovo che sia una cosa fighissima se vi interessa la storia del fandom vi invito a vedere il documentario The Fandom che trovate su youtube sì va bene ok magari qualcuno è interessato Zrumox sembra un papero no? un pesce lui un pesce un pesce spada un bacione grazie grazie a te tesoro ti abbraccio forte ciao tesoro ciao 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 intervento top dovete cercare il molto interessante dei furni queste sono le cose più strane e assurde metti sonic fit piedi ci sono immagini di sonic di lui che si leva le scarpe no ma assurde sono c'è un amore dietro pazzesco va bene ma poi io direi è bello con le scarpe sudi cioè con la suola sudi c'è la suola con il classico odore verde che esce sì sì va bene hai scoperto una nuova cosa ho scoperto una nuova pensa che io pensavo che parlassero di quei giochini del cazzo no 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 invece furbi è tutta sta bazza grazie a tutti